Buongiorno, questo è il secondo incontro per il progetto di filosofia Pensare il Novecento, che va avanti da tre anni ormai nel nostro istituto. E anche quest'anno abbiamo la cortese collaborazione del professore Emilio Spinelli, presidente della Società Filosofica Romana e docente della Sapienza, naturalmente la Facoltà di Filosofia, no non si chiama più Facoltà, vero? Dipartimento di Filosofia Villa Mirafiori. Come avete potuto vedere dal materiale che il professore ha inviato per tempo e come sapete dal titolo dell'incontro di oggi, lui si occuperà di presentarci la figura di Jonas. Con i colleghi del Dipartimento Storico e Filosofico abbiamo voluto proseguire questo itinerario perché ci sembrava importante, visto che il tempo dell'anno scolastico è un tempo esiguo, che non ci consente di arrivare al Novecento se non per cenni, per raccordi, con anche molto le vicende della storia. Ma volevamo approfondire alcune questioni della contemporaneità che ci stanno a cuore. Quindi il professor De Caro, la volta scorsa vi ricorderete, ha riproposto il tema del libero arbitrio a fronte delle conquiste delle neuroscienze e il professor Spinelli ci parlerà di Jonas, un pensatore che appartiene a quella fascia di intellettuali che furono costretti ad emigrare negli anni del nazismo e che si è espresso fino all'ultimo giorno della sua vita. È un uomo che ha attraversato tutto il Novecento, nato nel 903, morto nel 93, ha avuto modo di vedere tutto il dipanarsi della complessità del Novecento. E per tutti i pensatori di quel periodo, come Arendt, come Levinas, di cui ci siamo occupati negli anni passati, il tema centrale è quello della responsabilità, che come sappiamo è un tema di grandissima attualità. Lascio quindi la parola al professor Emilio Spinelli per questa relazione che, come avete visto dal nostro manifesto, lui ci ha voluto indicare con questo titolo, Dio, mondo, uomo. La riflessione di Hans Jonas. Buon lavoro. Prego. Non so se adesso sì. Allora, io sono particolarmente lieto di essere di nuovo qui, anche perché mi sembra che questo interesse per il Novecento rappresenti non solo qualcosa di importante per noi, ma anche, mi auguro per voi, nel senso che voi nel Novecento ci state con tutti quanti i piedi, anzi state ben oltre il Novecento e il Duemila. E quindi avere uno sguardo filosofico su ciò che non è passato, su ciò che non è monumentale o archeologico, ma che addirittura può essere effettivamente e legittimamente considerato attuale, credo che sia un ulteriore freccia, un ulteriore elemento di formazione per voi e per il vostro percorso. Io prima di iniziare ad annoiarvi, non lo farò a lungo, immagino di occupare 45-50 minuti, non di più, vi chiedo solamente tre cose nell'ordine. Allora, la prima è di spegnere tutti i telefoni cellulari possibili e immaginabili, almeno per ora. Dopodiché, se vi serviranno per, come è accaduto l'altra volta... Ecco, loro vedi che sono autorizzati da me a prendere appunti con il cellulare. Ah, ok, perfetto, benissimo. L'importante è che non servano per ricevere telefonate che sono più importanti di questa lezione. Sicuramente possono esserci telefonate più importanti di questa lezione, però le due cose sono, come avrebbe detto il nostro caro vecchio Aristotele, fra di loro contraddittorie. O si dà l'una o si dà l'altra. Per cui chi avesse telefonate urgenti o più importanti della lezione da fare è tranquillamente, diciamo, invitato ad andarsene da qui. Altrimenti, se resta qui, la cosa più importante è la lezione. Quindi la prima cosa è questa. La seconda cosa, io, come dire, avete avuto una lezione sul libero arbitrio, non la metto né sul neurofisiologico né sul luterano o erasmiano, ma non so se qui siete venuti per una scelta di libero arbitrio. Comunque ci state. Preparazione agli esami. Ok, allora, se ci state, come dire, la seconda cosa che chiedo è semplice. O ci state e siete effettivamente interessati, e questo ovviamente è il migliore dei mondi possibili, direbbe Leibniz. Oppure ci state e non siete interessati, non è il migliore del mondo possibile, però per favore, come dire, astenetevi dal disturbare. E di conseguenza potete, per quanto mi riguarda, spegnere i motori, dormire, senza russare possibilmente. Potete fare quello che volete, l'importante è che non ci sia nessun tipo di disturbo. Non tanto per me, ma per quella percentuale più o meno esigua dei vostri colleghi, che magari sono qui perché ci credono e sono convinti che possa essere qualcosa di buono e valido per loro e anche per il loro futuro. La terza cosa che vi chiedo, e questa ve la chiedo fuori da ogni retorica, ovviamente mi rivolgo alla prima fascia di studenti che ho citato, cioè non quelli che sono stati condotti qui per la capezza e con la catena, come il cagnolino di Crisippo, ma per quelli che sono venuti qui volontariamente e con interesse, vi prego, vi scongiuro, di appuntarvi tutti i tipi possibili di domande, dubbi, questioni, che riguardano quello che diremo e nei limiti del possibile anche quello che non diremo. Nel senso che se quello che io cercherò di esporvi suscita in voi nessi legami o in molti, molti casi, mi auguro, ricordi anche di cose che avete fatto o che state facendo, non vi fate scrupolo perché la parte più importante di questa giornata per me sarà, in parte, anche quello che vi dirò, sarà ipocrita se dicessi il contrario, ma soprattutto quello che io riceverò da voi, perché ogni volta che io faccio lezione mi arricchisco letteralmente in maniera notevole per quello che mi viene dall'altra parte del tavolo, perché mi impone e mi costringe a guardare il mio argomento, il mio oggetto di studio con occhi che probabilmente non avrei mai immaginato di avere. Quindi il vostro intervento sarà per me non solo benvenuto, non solo gradito, ma assolutamente utile. Vi prego di credermi, non sto facendo retorica, lo faccio e lo dico sempre anche a tutti i miei studenti. Quindi la terza premessa è la più importante e mi auguro che sia anche la più seguita da voi. Allora, diciamo che il titolo dice già tutto, nel senso che, come dire, vogliamo aggiungere altro a... Io credo di avere un titolo diverso da quello che avevo dato. Questo era quello di partenza, quindi io l'ho riportato. Perfetto. Comunque, insomma, ordine del mondo e supposizioni teologiche vi fanno chiaramente capire che saremo perfettamente nell'ambito di questioni che in gergo potremmo definire delle epocali questioni metafisiche. Quindi è chiaro che questo mi alienerà quel, diciamo, 10-20% perfino che aveva deciso di stare attento perché entriamo esattamente in quello che è uno dei domini fondamentali della riflessione filosofica e del pensiero filosofico della tradizione occidentale, la metafisica. Voi sapete che in realtà la metafisica nasce, almeno da un punto di vista editoriale, con Aristotele. Sapete che nasce perché ad un certo punto chi prepara l'edizione di Aristotele dà a un insieme di libri del corpus aristotelico, 14 libri per l'esattezza, il titolo Meta ta fiusica che all'epoca significava solamente che nello scaffale delle opere di Aristotele quei 14 libri venivano Meta ta fiusica dopo le cose dedicate ai temi di fisica. Non significava niente altro che questo. Il problema però è che dentro quei 14 libri veniva sollevato come primissimo problema quello della natura della filosofia e Aristotele rispondeva alla domanda su che cos'è la filosofia in una maniera estremamente semplice, netta, chiara. Aristotele era un tipo tosto, insomma, non era uno che aveva dubbi e diceva che cos'è la filosofia? La ricerca delle cause e dei principi primi. Ecco, questa è già metafisica perché per Aristotele le cause e i principi primi andavano individuati non solamente nell'ambito delle cose fisiche ma per poterli individuare bisognava andare metata fiusica, bisognava andare oltre le cose fisiche. Voi capite che questo tipo di discorso apriva la strada immediatamente a quella che da un punto di vista tecnico, nell'ambito della filosofia, si chiama una possibile teologia. Cioè un discorso su Dio che per eccellenza è quella entità che sta al di là delle cose fisiche. indipendentemente dalla relazione che esso intrattiene in quanto principio assolutamente primo con le cose fisiche. Insomma, quando noi entriamo nel terreno della metafisica il tema di Dio è assolutamente sul tavolo, è inevitabile, è non eliminabile. Però, insomma, il titolo che voi avete è vero che inizia con Dio però mette in gioco anche altri due concetti fondamentali uomo e mondo. Allora, se vogliamo cominciare a entrare un po' più nello specifico della mia chiacchierata il fatto che non si parlerà oggi solo di Dio ma si parlerà anche e soprattutto dell'uomo e del mondo è una caratteristica che è propria del pensatore su cui io vorrei che noi lavorassimo oggi. Cioè di Hans Jonas. È stato già detto, grandissimo pensatore del Novecento pensatore ebreo, veramente lui si definiva prima tedesco e poi ebreo prima del 1933. Però, diciamo, qualche vicenda storica che voi conoscete meglio di me lo convince sempre di più a definirsi un filosofo ebreo tedesco. ma comunque un filosofo che vive vive, permettetemi di usare un altro verbo vive e lotta incessantemente per tutto il Novecento nasce nel 1903, muore nel 1993 ma partecipa a tutti i grandi eventi di questo secolo del cosiddetto secolo breve. Non ve li riassumo però vorrei sottolineare questo aspetto biografico di Jonas perché nella sua filosofia c'è sempre, non solamente e questo è importante che voi lo sappiate per capire anche alcune delle sue soluzioni alcune delle sue proposte non c'è mai solo ed esclusivamente una riflessione astratta Jonas non è un filosofo da salotto non è uno che si alza la mattina dice che faccio, penso dalle 10 a mezzogiorno poi gioco a tennis e poi vado da mia zia e infine la sera vado al pub non funziona così per Jonas ogni suo pensiero è già un'azione ogni suo pensiero comporta la messa in gioco di uno specifico di un attento usiamo subito l'aggettivo fondamentale di un responsabile stare nel mondo il mondo non è una cosa neutra che sta lì fuori il mondo è una dimensione fondamentale del nostro essere esistenziale e se le cose stanno così allora capiamo che nel momento in cui noi stiamo nel mondo dobbiamo chiederci le ragioni le cause e i principi del mondo dobbiamo farlo perché siamo uomini e dobbiamo farlo cercando di individuare se, come e dove esistono dei principi metata fisica oltre le cose fisiche che danno ragione tanto del mondo quanto dell'uomo come capite questa triade concettuale non è affatto semplice io non vi voglio vendere la chiacchierata di oggi come una passeggiata parleremo di cose abbastanza come dire, difficili anche da un punto di vista concettuale tanto per dirvi una cosa che poi noi ritroveremo nella chiacchierata che ascolterete o subirete scegliete voi avremo a che fare subito con gente del calibro di Platone da una parte e Kant dall'altra cioè richiameremo anche pezzi della vostra formazione perfino liceale che sono indispensabili per capire che cosa Jonas pensa della triade concettuale Dio, uomo, mondo perché vi dico questo? perché su questa triade Jonas ha riflettuto ha diciamo esercitato la sua riflessione in maniera ininterrotta dalla prima cosa che ha pubblicato dal suo primo scritto che era dedicato all'ognosticismo antico che non è una malattia delle vie renali ma è insomma una tendenza che nasce diciamo all'incirca nei primi secoli dell'era imperiale e che determina come dire una posizione rispetto al mondo di cui vi dirò qualche cosa vi accenderò qualche cosa subito ma dagli scritti sull'ognosticismo all'ultimo volume che Jonas pubblica nel 1992 noi abbiamo ininterrottamente sul tavolo di lavoro di Jonas il problema di capire come si intrecciano fra di loro Dio uomo e mondo e la cosa importante è che Jonas cerca di capire come si intrecciano Dio uomo e mondo e cercherò di dimostrarvelo oggi non solamente richiamandosi come è giusto alla propria tradizione filosofica la tradizione filosofica che egli ha studiato e in cui si è formato ma cerca di capire che cos'è l'intreccio fra uomo Dio e mondo chiamando in causa anche le cosiddette scienze naturali le scienze hard attuando quindi un confronto che non è solamente parrocchiale allora vi faccio un esempio banale io qualche volta tendo ad abbassare il livello ma per cercare di farmi capire se voi dite ad un gommista ad un signore che vende le gomme di parlarvi del suo oggetto di studio sicuramente vi sentirete citare Pirelli Michelin Bridgestone Continental cioè sentirete una serie di cose parrocchiali se voi dite a un filosofo di parlarvi di Dio uomo mondo vi sentirete sicuramente citare Platone Aristotele Cartesi o Kant è inevitabile ecco Jonas fa un passo avanti non mantiene la sua riflessione solo dentro i confini ristretti della filosofia ma la allarga alla riflessione sulle scienze sulla biologia ad esempio e perfino sulla fisica quantistica contemporanea ecco nella chiacchierata di oggi troverete anche questo quindi come dire il menù si allarga non ci sta solamente la carne ma è mari e monti il menù carne e pesce perché ci sarà da una parte la filosofia dall'altra parte anche la scienza vi dico subito che questo è legato ad un fatto biografico nel momento in cui Jonas convinto dopo aver contribuito a fondare lo Stato di Israele che gli avrebbero dato una cattedra universitaria scudate la metto un po' brutta ma insomma in realtà nell'epistolario si capisce proprio questo quando gli dicono guarda caro Jonas sei tanto simpatico sei tanto carino ma al massimo ti possiamo dare un contrattino da precario all'Università di Gerusalemme se proprio ti sta bene ovviamente Jonas a quel punto rifiuta prende le valigie la moglie e se ne va in Canada attraversa l'oceano ma se ne va in una serie di istituzioni prima in Canada e poi negli Stati Uniti alla New School for Social Research di New York dove il pensiero dominante non è quello della filosofia che lui ha studiato e ha lasciato non è quello della filosofia cosiddetta continentale ma è un pensiero filosofico che o è analitico o peggio o meglio ancora è addirittura legato alla riflessione scientifica il collega più importante di Jonas in Canada si chiama Bertalanfi e Bertalanfi è un biologo di professione i più grandi amici di Jonas a New York saranno dei fisici di professione quindi come dire se Jonas voleva far sentire la sua voce e non poteva continuare a cantare con una sola nota che era quella della filosofia europea ma doveva come dire imparare un altro strumento doveva ricostruire la propria formazione anche in senso scientifico non a caso dopo la prima fase di studi storico-religiosi sull'ognosticismo tutta la seconda fase della carriera di Jonas è segnata dal suo progetto di inventare permettetemi di usare questo verbo forte di creare quasi dal nulla una biologia filosofica dove ovviamente il termine più importante per Jonas non è biologia ma è filosofica cioè creare uno sguardo filosofico sul bios sulla vita come amava dire lui su das organische su ciò che è organico ecco tutto questo sforzo di Jonas ha a che fare con la necessità non con la possibilità ma con la necessità di confrontarsi anche con la scienza allora sia come sia di questa breve brevissima panoramica sulla formazione di Jonas vi posso garantire che in tutte le tappe della sua vita filosofica della sua carriera filosofica negli studi gnostici nella fase della biologia filosofica nella fase conclusiva nell'ultimo periodo della sua vita Jonas non ha mai smesso di pensare alla triade chiamiamola così anche per comodità di appunti vostri alla triade Dio uomo mondo nel primo caso nel caso degli studi gnostici per ovvi motivi perché l'ognosticismo considerava il mondo una schifezza l'ognosticismo dipingeva anzi era accusato da Jonas di acosmismo cioè negava l'ordine e la bellezza del mondo e di conseguenza non volgeva lo sguardo sul mondo non lo considerava un luogo in cui l'uomo era destinato a compiere e a consumare la propria esistenza e Jonas combatte l'ognosticismo esattamente su questo piano perché l'ognosticismo rompe il legame fondamentale fra l'uomo e il mondo e non va bene perché per Jonas si deve reggere tutto insieme l'uomo il mondo e Dio la biologia filosofica del secondo periodo ci può aiutare forse sì perché Jonas ritiene che in quel sguardo filosofico sulla vita si possa coniugare non solo un elemento fondamentale del mondo la vita badate la vita per Jonas è qualcosa di diverso da ciò che non è organico questa è ovviamente un suo pregiudizio se voi parlate con gli scienziati vi dicono che anche le pietre sono vive che anche le piante sono vive per Jonas quando si parla di vita si parla dagli organismi animali in su cioè dagli organismi unicellulari veramente in su perché lì c'è la vita lì c'è lo scambio metabolico fra l'interno e l'esterno direbbe un biologo ecco allora a quel punto comincia il problema della vita ma nello stesso momento comincia il problema del rapporto fra il soggetto e l'oggetto se volete fra lo spirito e la materia e inevitabilmente si pone il problema dell'origine della vita della provenienza della vita ed è l'ultima fase del pensiero di Jonas che è dedicata esattamente a questo tema a cercare di approfondire quella che lui chiamerebbe molto volentieri la dimensione spirituale certo come ecco io oggi vorrei raccontarvi questo cioè vorrei cercare di raccontarvi come Jonas riflette sulla dimensione spirituale senza mai tradire l'intreccio tematico fra l'uomo o se volete fra la natura il mondo come volete l'uomo la natura il mondo e Dio come lo fa qui c'è la prima cosa fondamentale allora molti molti autori hanno dato una risposta all'intreccio di questi tre grandi concetti dogmatica cioè hanno detto le cose stanno così c'è Dio là sopra bisogna crederci poi c'è il mondo in quanto creatura di Dio dentro il mondo c'è l'uomo arrivederci e grazie questa prospettiva teologica dogmatica non è quella di Jonas questo non vuol dire che Jonas non creda da ebreo in un Dio creatore del mondo il problema è che Jonas è più kantiano in questo caso che ebreo Jonas ha interiorizzato completamente anzi ha letteralmente digerito completamente quello che Kant dice nella dialettica trascendentale mi dispiace qua dobbiamo ripassare un po' di Kant quindi come dire è roba che non si può eliminare tanto lo dovete portare agli esami quindi nel momento in cui Kant mette a posto nell'analitica nell'estetica nell'analitica trascendentale la conoscibilità del mondo dell'esperienza possibile intuizioni dello spazio e tempo e poi categorie apparato categoriale io penso sta facendo un'operazione che vale per il mondo dell'esperienza possibile cioè vale per quel casco lì di fronte per questa bandiera per mio cugino Alfredo per il cane Charlie per tutte le cose di cui io posso avere esperienza ma ci sono cose che si sottraggono al mondo dell'esperienza possibile come ad esempio l'anima o come ad esempio Dio che cosa si fa nel momento in cui si arriva a confrontarsi con questi oggetti le strade sono due o uno volta le spalle e dice vabbè ma in fondo a me che me ne frega oppure ponendosi il problema si rende conto che benché non sia possibile sottoporgli ad esperienza e benché in senso stretto non sia possibile conoscere questi oggetti ciò non di meno è possibile pensarli Kant ha nettamente distinto la sfera del conoscere dalla sfera del pensare e Dio appartiene esattamente alla sfera del pensare non del conoscere noi non l'abbiamo mai incontrato alla fermata dell'autobus non ci ha mai aiutato a farci la doccia a casa Dio ma questo non vuol dire che non lo abbiamo pensato allora il problema non è più quello delle condizioni di conoscibilità dell'oggetto Dio il problema è quello delle condizioni di pensabilità dell'oggetto Dio allora questa attenzione al divino che Jonas ha si iscrive interamente in questo quadro è totalmente kantiana diciamolo senza problemi adesso ve lo dimostrerò con il testo numero 2 ma intanto mi preme dirlo in anticipo allora facciamoci una domanda Dio è sicuramente un oggetto un po' strano è diverso dal cane Charlie e perfino da mio cugino Alfredo questo è sicuro ok è un oggetto strano che ci pone una sfida intellettuale molto più importante diciamo che come è stato detto da molti pensatori Dio rappresenta letteralmente un mistero si può dire qualche cosa di più su questo mistero di nuovo la risposta può essere o no o sì Jonas opta per la risposta sì sì voglio provare a dire qualche cosa di più sul mistero di Dio come però sotto forma di una sorta di dimostrazione di un bevais come direbbe Kant no io Dio non lo posso dimostrare ma potendolo pensare posso formulare su di lui almeno delle ipotesi delle supposizioni delle fermutungen l'ultimo libro di Jonas che finalmente è stato tradotto e bene in italiano dalla Campo da Alessandra Campo si intitola ricerche filosofiche e ipotesi dobbiamo esercitare ricerche filosofiche perfino per formulare non soluzioni badate non soluzioni metafisiche ma ipotesi supposizioni siamo dunque in un ambito in cui noi non possiamo vantare la verità o la certezza assoluta che pretendono le scienze cosiddette hard siamo in un campo e qui vale la pena leggere la testimonianza numero uno che è tratta da uno dei libri più belli di Jonas piccolino io lo consiglio sempre anche perché mi risulta che non sia morto mai nessuno dopo aver letto queste 30 pagine il concetto di Dio dopo Auschwitz lo trovate lo comprate sono 30 pagine anche un po' di meno e io ve ne racconterò buona parte quindi insomma diciamo quando lo leggete poi siete pure avvantaggiati per una ventina di pagine già le saprete ma insomma in questo piccolo testo il concetto di Dio dopo Auschwitz sottotitolo Aine Judische Stimme una voce ebraica quindi non dimentichiamo mai che quello che Jonas ci dirà sul concetto di Dio importante dopo Auschwitz ce lo dirà da ebreo e scusami e tra l'altro voi capite che questo vi consente di connettere i contenuti centrali del programma di storia che portate agli esami con la storia del pensiero che pure portate agli esami noi come dipartimento abbiamo voluto questi incontri per mostrare come la organicità della nostra programmazione che ha comportato anche un certo percorso nel viaggio di istruzione sia coerente con quello che vi si presenta dal punto di vista naturalmente storico ma anche filosofico essendo un librino forse vale proprio la pena di utilizzarlo per prepararsi agli esami adesso però non crediate che sia facile leggerlo è comunque un filosofo contemporaneo vi dice così io vi dico così perché ovviamente più o meno surrettiziamente spero che voi lo compriate come dire presi da una follia filosofica leggerlo è un po' più impegnativo però io proverò ad aiutarvi perché sarà parte integrante i due testi su cui mi concentrerò oggi saranno questi due libricini per cui insomma il concetto di Dio lo percorreremo però allora mistero di Dio possiamo rispondere o assolutamente no o assolutamente sì per Jonas sì assolutamente sì come possiamo rispondere formulando ipotesi o supposizioni che cosa sono le nostre supposizioni delle superbe soluzioni al problema di Dio no così chiude questo libro Jonas signori e signori tutto questo è gestammel che per un tedesco significa proprio balbettio, anche le ineguagliabili parole dei grandi veggenti e uomini di preghiera, i profeti e i salmisti, sono stati solo un balbettio di fronte al mistero eterno. Anche ogni risposta alla domanda di Giobbe non può che essere tale. Un balbettio. Quindi come dire, non vi aspettate che qui si trovino cose per cui uno poi le stampa sui cioccolatini, le legge e queste sono le soluzioni. No, troveremo delle ipotesi, troveremo un uso molto raffinato di alcuni strumenti filosofici per arrivare a pensare l'ipotesi di Dio. Allora, se questo è vero, noi dobbiamo pensare che Jonas si sottragga immediatamente a qualsiasi, l'ho già usato questo aggettivo, atteggiamento superbo di fronte al problema di Dio. Questo è il testo numero due, ce lo dice in un modo inequivocabile. Può sembrare un gioco ozioso voler aggiungere a tutte le più argute prove dell'esistenza di Dio, insomma adesso qui un ripassino vogliamo dire almeno, almeno da Anselmo in poi, cioè almeno dall'unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio, Lens, Quonichil, Maius, Cogitari, Potest, vogliamo parlare delle risposte di Gaunilone, c'è tutta una ricca letteratura filosofica su queste prove dell'esistenza di Dio. Ma Jonas si dice subito, può sembrare un gioco ozioso aggiungerne un'altra, perché di queste prove è cosparsa la distesa dei cadaveri di storia della filosofia. Perché aggiungere una prova ulteriore sapendo peraltro che anch'essa farà la stessa fine? Ma i cadaveri su quel campo sono solo le logiche pretese di quelle prove di essere appunto prove, in senso forte, scientifico, mentre esse o alcune di esse, anche dopo la più sommaria confutazione di questa apparenza, possono mantenere il valore di articolazioni di fondamenti razionali che ottengono ascolto nella considerazione dell'esistenza di Dio e ne suggeriscono per così dire l'ammissione pur senza dimostrarla. Sono dei suggerimenti, suggeriscono l'esistenza di Dio, ma certo non la dimostrano. Si può trattare tanto di un'affermazione quanto di un'onegazione dell'esistenza di Dio. Entrambe superano ciò che Kant chiama i limiti dell'esperienza possibile, ma soddisfano un bisogno della ragione e non del mero sentimento. È esattamente quello che Kant dice della metafisica. Se voi rileggete la prefazione alla critica della ragion pura, Kant dice la metafisica come scienza è impossibile e va bandita, ma la metafisica come esigenza è inevitabile. È vero che noi siamo sicuri solamente, immagine di apertura della dialettica trascendentale kantiana, in una piccola isola che è quella della scienza, sostanzialmente newtoniana, dove noi raggiungiamo delle certezze epistemiche e conoscitive. Ma questo non vuol dire che intorno a quell'isola non ci sia il grande mare della metafisica. Allora il coraggio di un filosofo sta non solamente nello starsene beato nella sua isoletta, ma nel prendere un vascello e una nave, ovviamente metaforicamente, di pensiero, per provare a barcare o comunque a viaggiare nel mare della metafisica. Questo è l'atteggiamento metodologico di Jonas. Quindi se noi vogliamo dimostrare l'esistenza di Dio, Jonas subito vi dice no, assolutamente. Se noi vogliamo ridurre la questione di Dio ad una forma di conoscenza piena e dimostrabile, allora la risposta è no. Se noi vogliamo provare a balbettare, ma vogliamo provare a farlo con un minimo di razionalità filosofica, allora Jonas vi dice sì, dobbiamo provare a farlo. E dobbiamo provare a farlo soprattutto per spiegare non tanto che il mondo c'è, questo insomma, voglio dire, non è che abbiamo tutta sta fatica a dimostrare che il mondo c'è, ma dobbiamo fare uno sforzo razionale per provare a spiegare o a ipotizzare l'origine del mondo. Il vero problema per Jonas non è tanto il fatto che il mondo ci sia, ma il modo in cui il mondo è venuto all'essere. Quindi il vero problema, detto in termini teologici, per Jonas è il problema della creazione. Lì dobbiamo realizzare non una risposta dimostrabile, ma, cito sempre da Jonas, una supposizione cosmogonica. Mi rendo conto che sono tutte parolone, però insomma fa pure chic se voi all'esame sparate, dice ma vorrei parlarvi della supposizione cosmogonica di Jonas. E gli dite che è una supposizione, cioè qualche cosa che viene posto sotto ad un argomento razionale, ma che è cosmogonica, perché si occupa della genesi del cosmo. Ovviamente potete fare ancora più i furbi dicendo che non si occupa della genesi del mondo in modo astratto, ma si occupa della genesi del cosmo. E lì potete sfruttare, se avete fatto greco, tutte le vostre conoscenze linguistiche per dire che si occupa della genesi di ciò che è perfettamente ordinato, perché questo è il cosmos dai greci per i greci e per tutti noi. Non è un'accozzaglia qualsiasi di cose che sta di fronte a noi, ma è un ordine che è dato alla realtà. Chiaro? Allora, come dire, vogliamo provare a farla questa supposizione cosmogonica, continua Jonas, che si raccomanda alla ragione, ma che non la può costringere. Allora, l'uso della razionalità non è un uso forte, violento, costrittivo in Jonas. La supposizione cosmogonica si raccomanda, si pone di fronte, come dire, inevitabilmente si lascia cullare dalla riflessione, ma non impone nulla alla ragione. Certo, se Jonas fosse stato un neopositivista del Novecento, avrebbe subito etichettato tutto quello che io ho detto finora, con il famoso rasoio positivistico, come non sensico, un aggettivo che non esiste, ma è carino pure questo, come frutto di non senso. Parlare di cose che si sottraggono ai protocolli scientifici della verificabilità è un non senso, per cui meglio buttarle via. La storia della filosofia è popolata di queste assurdità non sensiche e non dobbiamo continuare a farla. Ecco, Jonas è assolutamente un antineopositivista. Se voi volete fare una cosa carina nei vostri anche prodotti o elaborati, potete subito instaurare un bel derby. Cioè, nel Novecento, nella prima metà del Novecento, esiste letteralmente un derby teorico fra chi ritiene che la filosofia debba ritursi a scienza e chi ritiene che la filosofia stia insieme alla scienza e che con la scienza possa dialogare. Ovviamente su piani e con presupposti diversi. Allora è chiaro che tutto questo vi porta immediatamente non solo dentro il programma di filosofia, ma anche dentro il programma di matematica. Vogliamo parlare delle geometrie non euclidee? Vogliamo parlare della fisica e della rivoluzione quantistica rispetto alla fisica tradizionale? Vi porta immediatamente dentro un terreno in cui voi andate a toccare problemi che per la parte seria perfino della scienza riguardano la cosiddetta epistemologia e cioè il discorso sui fondamenti legittimi della nostra conoscenza. Chiaro? Come vedete Jonas si presta ad essere sfruttato da molti punti di vista. Ma comunque, diciamo che una cosa è certa, non è un neopositivista. Questo lo possiamo tranquillamente dire. Vogliamo aggiungere un altro elemento per capire la sua posizione? Non solo non è un neopositivista e dunque accetta le sfide ipotetiche della ragione filosofica, ma è un ebreo. E anche questo non glielo toglie nessuno. Jonas in tutti i casi, in tutti i punti, in tutti i momenti della sua vita non nega mai l'ipoteca ebraica della sua formazione. Certo, dopo che avrete ascoltato quello che fa del concetto di Dio in questo libricino vi chiederete come fa ad andare d'accordo con la ortodossia ebraica o con la ortodossia teologica. Vi dico subito che in questo libricino Jonas arriva a dire che dopo Auschwitz dopo Auschwitz e dopo quello che ha significato l'olocausto noi possiamo pensare ancora un Dio buono, perfino. Ancora un Dio giusto non lo possiamo pensare onnipotente perché se fosse stato onnipotente avrebbe evitato Auschwitz che è insomma una bottarella non da poco per uno che fa teologia perché uno che fa teologia se ne va col suo santino di Dio lo apri e dietro c'è scritto Dio è tutto onnisciente ma soprattutto onnipotente che vogliamo fare? Che Dio non è onnipotente? Che è come mio cugino Alfredo che non ce la fa sollevare un sasso? Eh no eh, cioè noi non possiamo e invece Jonas ha il coraggio intellettuale di privare Dio di una delle caratteristiche fondamentali che la teologia dogmatica gli aveva sempre attribuito. Ma andiamo per ordine. Allora, che cosa fa Jonas in questo libricino? Beh, questo libricino innanzitutto è un libro autobiografico, fortemente autobiografico è chiaro che solo un ebreo può scrivere facendo di Auschwitz uno spartiacque della propria esistenza e Jonas lo può fare perché autobiograficamente sua madre è morta Auschwitz Ok? Quindi non è... Voi dovete pensare ai filosofi non solamente come gente che lavora dentro la cameretta no? Sta dentro la cameretta, poi esce e torno a dire va a giocare a tennis, si innamora di Maria sì, anche questo ma i filosofi hanno innanzitutto una biografia e la loro biografia passa a volte per eventi che non sono solo loro ma che sono ipocali, che segnano un mondo intero e Auschwitz lo è stato quindi Jonas sente su di sé il doppio peso il peso individuale, personale, biografico della morte della madre e il peso epocale della, come dire, tentativo di annientamento di un popolo del suo popolo chiaro? Quindi, come dire, la riflessione si fa molto molto più forte quindi il problema della Shoah sicuramente sta dietro questo libro però non c'è solo questo allora, Jonas lo definisce questa è una definizione molto bella, vi do proprio il virgolettato questo libro è un pezzo di teologia manifestamente speculativa quindi Jonas non nega che sta facendo il teologo lo dice lui è un pezzo di teologia è un pezzo di teologia non dogmatica ma manifestamente speculativa è una speculazione, è un pensare proviamo a pensare proviamo a percorrere la strada del pensare cantianamente non del conoscere e quindi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti della tradizione razionale e filosofica per provare a pensare Dio qual è il primo strumento che Jonas usa in questo libricino per pensare Dio? guarda caso il mito un mito ben preciso quello del timeo di Platone quello del demiurgo platonico allora, sgombriamo subito il campo da un equivoco che mi auguro voi non, come dire riusciate a evitare per esempio in una futura interrogazione a scuola o agli esami non vi fate venire in mente che il demiurgo platonico né tantomeno qualsiasi altro primo principio della filosofia greca pagana sia un principio creatore il concetto di creazione è assolutamente straneo al mondo pagano tutti i primi principi demiurgo compreso di Platone non creano la realtà ma se la trovano già di fronte la jora la iupodokè il ricettacolo delle forme in Platone già c'è il demiurgo che cosa fa? fa un'opera io la presento spesso così ai miei studenti fa un'opera di intelligente bricolage ok? si trova di fronte a un caos incredibile non ci si capisce assolutamente niente perché questa è la materia su cui agisce il demiurgo che già c'è che già esiste che non viene creata non è come il mito biblico del genesi della creazione per cui Dio prima stava da solo poi si alza una mattina non sa che fa si stira e dice che faccio stamattina creo no che prima non c'era no lì già c'è la materia brutta disordinata informe schifosa e allora che cosa fa il demiurgo? guarda il mondo delle idee e mette ordine nella realtà fa diventare la materia a un cosmos chiaro? allora nel mito di Platone Jonas accetta questa posizione forte del demiurgo che mette ordine ma supera Platone nel pensare che questo suo demiurgo crea anche il mondo allora il mito di Platone serve per far capire a tutti che fin dall'antichità si era sentita l'esigenza di spiegare il modo in cui questo variegato agglomerato di cose che abbiamo di fronte diventa qualcosa di ordinato nella prospettiva di Jonas diventa qualcosa di ordinato perché viene creato da un Dio e viene creato da un Dio perché? qui sta la novità di Jonas viene creato da un Dio non perché Dio sia presente nel mondo ma al contrario perché Dio si ritira dal mondo qui Jonas aggiunge al mito platonico del demiurgo il mito cabalistico ebraico dello Tsim Tsum come si dice in termini tecnici cioè il mito del ritrarsi di Dio ve lo spiego è molto difficile è un concetto teologico molto difficile ma sostanzialmente per Luria che fu il primo a proporre questa idea di Dio nel momento in cui Dio crea il mondo anziché essere presente Dio si ritrae completamente lascia il mondo a se stesso però qui c'è la novità su cui Jonas si attacca a cui Jonas si attacca a cui Jonas si appella il mondo e nel mondo non solo è ordinato ma nel mondo c'è almeno una realtà che lo ricapitola che costituisce letteralmente il punto più alto della scala della natura questo punto più alto per chi crede nel dettato biblico non può che essere l'uomo ed ecco allora che noi abbiamo ricapitolato la triade Dio creatore di un mondo da cui però si ritira un mondo che è ordinato ma che è nelle mani dell'essere della creatura che sta più in alto di tutti e cioè l'uomo allora voi capite che questo concetto cioè l'idea di un Dio che rimane creatore ma che nello stesso tempo mette se stesso nelle mani dell'uomo cambia completamente la nostra nozione di uomo noi non siamo più burattini etero diretti non c'è più qualcuno che ci dice che cosa dobbiamo fare noi siamo lasciati qui in questo mondo con la responsabilità completa del suo funzionamento questa è la novità di Jonas quando Jonas parla del quando Jonas scriverà la sua opera più importante il principio responsabilità questo ha in mente noi dobbiamo pensare a questa realtà che abbiamo di fronte come una realtà che è sì ordinata ma che noi abbiamo la possibilità di mantenere o di distruggere di salvare oppure di annientare voi capite che il ruolo dell'uomo da questo punto di vista si moltiplica diventa enormemente più pesante perché non c'è più la possibilità di dire vabbè ok ma faccio una telefonata chiamo Dio e vediamo quello che succede e no perché Dio si è ritirato dal mondo Dio non sta più nel mondo il destino del mondo è nelle nostre mani nelle mani degli uomini e Dio addirittura soffre si sente esposto al rischio della cattiva scelta dell'uomo leggiamo alcune pagine di Jonas che sono molto più importanti testo numero 3 allora mi aiutai con un mito escogitato da me quel mezzo ipotetico per immagini comunque credibile che Platone ammetteva per la sfera che travalica il terreno del conoscibile allora ancora una volta Jonas sta dentro la tradizione filosofica il mito in Platone non è una favoletta io non so come l'avete fatto voi ma insomma non pensate che i molteplici miti che Platone usa sono un modo per raccontare delle frottole al contrario il mito in Platone è un'altra strada per giungere alla verità non la strada razionale della dimostrazione ma comunque una strada che travalica il terreno del conoscibile ma che consente il pensabile al principio per una scelta inconoscibile il fondamento divino dell'essere cioè Dio decise di rimettersi al caso al rischio e all'infinita molteplicità del divenire e lo fece genslich completamente la divinità entrando nell'avventura dello spazio e del tempo non trattenne nulla di sé la creazione di cui parla Jonas non è una creazione in cui non è la creazione di malbranche degli occasionalisti in cui Dio è sempre lì ad aggiustare tutte le cose non è un meccanico del mondo il Dio di Jonas il Dio di Jonas crea il mondo ma lo lascia all'avventura dello spazio e del tempo nessuna sua parte ne rimase intoccata immuna cosicché essa stessa potesse guidare correggere e da ultimo garantire dall'aldilà la tortuosa trasformazione del suo destino nella creazione non c'è il Dio che garantisce tutto questo Dio ha dato sì vita al cosmo ma nel momento stesso in cui ha dato vita al cosmo se ne è tolto via ora per la dottrina creazionista normale questo è un macello ok usiamo il termine è anzi è una posizione eretica è una posizione che venne attaccata dai rabbini del tempo e anche dai teologi cristiani perché ovviamente toglieva a Dio il controllo del mondo cioè Dio che pure è l'ens con ichil maius cogitari potest all'improvviso diventa impotente ecco perché non è più onnipotente diventa impotente rispetto alla sua stessa creatura voi capite che insomma non è un discorso facilmente digeribile allora che cosa accade nel momento in cui Dio creato il mondo se ne ritrae che quel mondo va avanti che quel mondo comunque adesso Jonas usa letteralmente una parola che per noi post darwiniani è normale ma che insomma in bocca a uno che parla di creazione non è tanto normale ok parla di evoluzione il mondo si evolve testo numero 4 l'evoluzione mette a disposizione tutto ciò attraverso il ricoglio del suo gioco e la forza del suo sprone le sue creature realizzandosi in conformità al loro istinto ragazzi qui non c'è più nessuna ipoteca divina non è che le creature si realizzano in base a quello che dice il padre eterno si realizzano in conformità al loro istinto giustificano l'autace impresa divina ma non perché Dio c'è ma perché Dio ha dato semplicemente come dire la condizione d'essere della realtà allora che cosa accade nel momento in cui comincia l'evoluzione che a poco a poco si sviluppano i vari elementi di questo mondo che diventa un cosmo e allora gli astri tutta la realtà inorganica le piante gli animali eh sì tutto questo va bene ma fino a questo punto le cose funzionano perché in realtà gli astri gli esseri inorganici le piante in piccola misura solamente in piccola misura gli animali non possono essere ritenuti responsabili del corso del mondo le cose cambiano veramente secondo Jonas nel momento in cui compare al culmine della scala della natura l'uomo perché cambiano le cose perché nella prospettiva di Jonas l'uomo è l'unica parte della realtà è l'unico elemento della realtà se volete con un termine tradizionale è l'unica creatura che ha completamente nelle sue mani il pallino lo scettro della libertà del libero arbitrio e della scelta ma questo vuol dire che l'uomo può scegliere tanto bene quanto male non è che c'è qualcuno che gli dice no devi scegliere a l'uomo può scegliere a come può scegliere b e dalla sua scelta badate dipende non solamente il destino del mondo ma addirittura il destino di Dio siamo in una condizione in cui paradossalmente si è parlato di un antropocentrismo di Jonas io sono totalmente d'accordo è chiaro che parliamo di un antropocentrismo limitato perché è chiaro che l'antropos l'uomo è comunque una creatura di Dio però nel momento in cui abbiamo accettato lo zimzum il ritrarsi di Dio beh a quel punto abbiamo un antropocentrismo fortissimo perché è l'uomo che è veramente il centro è il motore di tutta l'evoluzione della realtà e allora che cosa accade testo numero 5 ed egli egli è Dio trema perché l'urto dell'evoluzione supportato dalla propria forza centrifuga supera la soglia in cui l'innocenza viene meno e un criterio completamente nuovo di successo e di insuccesso prende possesso dell'azione divina questo è il punto fondamentale il sopraggiungere dell'uomo significa il sopraggiungere di sapere e libertà l'uomo non è più solamente colui che conosce la realtà ma baconianamente è colui che la può anche tramite il conoscere cambiare modificare sapere è anche potere allora il sopraggiungere dell'uomo significa il sopraggiungere di sapere e libertà e con questo supremo dono notate l'espressione a doppio taglio perché non è un dono solo positivo è un dono che può essere positivo ma anche negativo con questo dono a doppio taglio l'innocenza del mero soggetto della vita che compie se stessa crea spazio a che cosa al compito della responsabilità sotto alla distinzione di bene e male allora il bene e il male non ci sta prima perché Dio ha stabilito dove sta il bene e dove sta il male ma il bene e il male sono un prodotto della responsabilità dell'uomo il sopraggiungere dell'uomo squarcia il velo di questo mondo allora voi capite che nella triade Dio uomo mondo è l'uomo che diventa fondamentale l'uomo porta sulle sue spalle tutto il peso delle sue scelte lo può fare perché oltre a sapere è libero ma la sua libertà quanto costa che prezzo ha la libertà dell'uomo la libertà dell'uomo per Jonas ha anche il prezzo di Auschwitz che certo non è colpa di Dio chiaro Auschwitz ricade come qualsiasi altro evento negativo malvagio orribile della storia del mondo ricade sulle spalle del sopraggiungere del sapere della libertà dell'uomo allora se questo è vero come dire noi dobbiamo renderci conto che quello che ci sta proponendo Jonas non è più semplicemente un ipotetico messaggio tramite cui possiamo pensare Dio io la vedo diversamente io ve l'ho scritto e ve la rivendo così come l'ho scritto quello che sta facendo Jonas è una cosa diversa sta lanciando un messaggio morale etico sta letteralmente dicendo a tutti noi mi interessa sì farvi partecipe dell'ipotesi cosmogonica della supposizione cosmogonica sulla nascita del mondo ma mi interessa molto di più dirvi che in questo mondo qui in questo orizzonte siamo noi e siete voi responsabili del bene e del male allora se questo è vero vuol dire che nel momento in cui noi parliamo di libertà non possiamo scindere il concetto di libertà dal concetto di responsabilità esseri liberi significa automaticamente accollarsi l'onere delle proprie azioni libere e dunque esserne responsabili e dunque se necessario pagarne le conseguenze c'è una bellissima frase che vi leggo che non ho riportato ma che vi leggo in un altro saggio di Jonas del 92 risulta che nelle nostre mani inquiete vi prego di fare attenzione allora nelle nostre mani inquiete perché se noi avessimo sempre il boss dietro il padre eterno le nostre mani non sarebbero inquiete chiaro cioè noi avremmo sempre un'ipoteca dell'ente di cui non si può pensare niente di più grande cioè voi un garante metafisico assoluto sta sempre lì è chiaro che le nostre mani sarebbero guidate sarebbero provvidenzialisticamente guidate verso il meglio no no risulta che nelle nostre mani inquiete almeno in questo angolo terrestre del cosmo è posto il destino dell'avventura divina cioè nelle nostre mani è il contrario è nelle nostre mani che c'è l'avventura di Dio non nelle mani di Dio che c'è la nostra e aggiunge e che la responsabilità per quella avventura divina giace sulle nostre spalle allora voi capite che qui abbiamo come dire è vero che abbiamo un tentativo di presentarci quella che i filosofi con le loro parolone amano chiamare la dimensione totale dell'essere ogni tanto pure sui manuali leggete ste parolone per cui che cosa fa il filosofo metafisico riflette sulla dimensione totale dell'essere sì è vero non è che non è vero non è che vi sto dicendo che Jonas come dire sta facendo il furbo c'è anche questo nella sua riflessione però in realtà secondo me c'è altro c'è la volontà di dare mettiamola cantianamente abbiamo iniziato con Kant vorrei chiudere questa prima parte di nuovo con Kant c'è in questo che dice Jonas la volontà di proporre un nuovo imperativo categorico letteralmente una nuova forma di imperativo categorico un dovere che l'uomo deve porre sulle proprie spalle perché è in una condizione se accettiamo il mito e la ricostruzione di Jonas in cui il bene e il male dipendono da lui bene allora mi spiace interrompere questo momento però mi scuso con il professore ma la quinta B dello scientifico è obbligata ad andare a fare il compito di scienze quindi molto educatamente si avvia in bocca al lupo in bocca al lupo quindi la quinta B deve uscire e vorrei pregare vorrei pregare però tutti quelli che sono morbidamente scivolati sulle comode poltrone di velluto di erigersi di nuovo grazie e anche un certo gruppetto dell'internazionale se potesse smetterla di ridacchiare mi farebbe piacere prego professore torno a dire spegnete semplicemente il motore mi rendo conto che può essere poco interessante no invece al contrario scusa volevo mi permetto di aggiungere una cosa questo discorso che tu facevi poco fa è importantissimo ragazzi questa ripresa davvero di Kant cioè questo ritorno a Kant con un tema di grandissima attualità se l'uomo torna al centro totalmente al centro perché è su di lui che completamente ricade la responsabilità dell'azione io vi invito però per le domande che mi aspetto dopo come è già accaduto insomma in altre situazioni a cercare e bilancio questo amo a ripensare quello che ci ha detto il professor De Caro se Jonas dice che accade questo la grande domanda che ci eravamo posti l'altra volta quanto davvero siamo totalmente padroni del nostro libero arbitrio si propone di nuovo allora cerchiamo di non fare delle isole dei contributi che i filosofi che sono venuti da noi ci stanno dando cerchiamo di riconnettere il pensiero contemporaneo tra le diverse esperienze e anche di pensare visto che Jonas come diceva il professore e come ogni pensatore ma certamente quelli del novecento di più sono completamente calati nell'esperienza storica che si trovano a vivere beh ecco questa grande domanda se davvero l'uomo come dice anche Arendt come dice Levinas cioè i pensatori che devono fare i conti con la storia che hanno vissuto l'uomo è totalmente responsabile e ormai non può eludere questa condizione beh le domande sarebbe interessante che partissero da lì ripeto anche mettendo in relazione le due relazioni che avete ascoltato è assolutamente come dire non solo legittimo ma proficuo nel senso che qui il dialogo è proprio un dialogo fra una coté un versante della riflessione filosofica che si che inclina verso le neuroscienze che dunque cerca soluzioni in una direzione che è che è inevitabilmente legata all'epistemologia di carattere hard e forte e dall'altra parte invece una riflessione sulla libertà sul libero arbitrio che cerca le proprie radici nella morale nella fondazione morale in quella che Kant avrebbe chiamato la ragion pura pratica ok? ecco questo è il vero problema ovviamente nel caso di Jonas c'è un superamento di Kant c'è un ancoraggio a Kant anche Jonas parla di imperativi parla di imperativi categorici ma va oltre Kant se voi leggete questo libricino la cosa che vi sconvolge di più è che Jonas fa il verso letteralmente riformula gli imperativi categorici kantiani in tre maniere diverse come aveva fatto Kant no? vi ricordate? insomma agisce in modo tale che la massima delle situazioni possa diventare principio universale oppure tratta sempre l'altro mai sempre come fine mai sempre come mezzo ma anche sempre come fine cioè una serie di formulazioni che andavano bene in Kant perché e con chi quando noi parlavamo fra me e la signorina fra lui e quell'altro là dietro cioè in una sfera morale interumana ma tutto quello che sta fuori il peso del mondo quello che in ecologia grazie a Jonas da 1979 in poi si chiama la biosfera che ne facciamo della biosfera? non ce ne frega niente? la morale è solamente una questione relazionale fra esseri umani? no Jonas va oltre Kant perché l'imperativo categorico ci impone di salvaguardare non solo il nostro rapporto con l'altro con il tu con il prossimo per dirla in termini cristiani ma ci impone di salvaguardare l'intera biosfera il testo numero 7 è quantomeno non privo di senso chiedersi se la condizione della natura extraumana la biosfera ora sottomessa al nostro potere nel suo insieme nelle sue parti sia diventata appunto qualcosa questa è la frase fondamentale da mettere proprio con l'evidenziatore di tutti i colori è diventata la biosfera qualcosa che è data in custodia all'uomo e avanzi perciò nei nostri confronti una sorta di pretesa morale non soltanto al nostro ma anche a suo favore e in base a un proprio diritto noi fino a Jonas siamo stati abituati a parlare di diritti solo ed esclusivamente nella sfera interumana nelle relazioni interpersonali no è la natura tutta intera che ha diritti non a caso dagli anni 80 in poi Jonas diventa il testo di riferimento di tutte le grandi formazioni ecologiche prima tedesche e poi internazionali perché dietro questa idea c'è un'idea di ecosistema quello che va salvato non è solamente il rapporto fra me mio cugino e mia sorella ma è fra me mio cugino mia sorella e quei mari in cui sversano milioni di miliardi di tonnellate di petrolio a causa delle petroliere quella è parte integrante della mia sfera morale è data in custodia a me a noi tutti quindi come dire la prospettiva si amplia in un modo incredibile allora se questo è la parte forte della proposta di Jonas c'è poi una parte più leggera che è legata a quest'altro libricino la domanda senza risposta questa è una conferenza che io nastenne nel 1970 gli dissero senti ma perché non ci vieni a parlare di qualche cosa di simpatico io ho ricostruito le lettere quindi insomma la corrispondenza è simpatica perché questi lo volevano che lui andasse lì e facesse sostanzialmente una lezione di teologia e lui gli risponde guarda io vengo però te la faccio strana cioè faccio un discorso completamente diverso provo a vedere se riesco a smontare Laplace sapete chi è Laplace ok ma come la teoria di Kant Laplace diciamo che è fra tutti i possibili scienziati che poteva scegliere Jonas quello che è più legato ad una visione meccanicistica materialistica e riduzionistica della realtà per cui il mondo e la realtà si può spiegare iuxa propria principia tutto all'interno senza dover ricorrere a nient'altro c'è un famoso aneddoto con cui Jonas apre questa conferenza e dice Laplace è quel signore che una volta lo chiamò Napoleone e gli disse Laplace ammazza quanto sei bravo hai scritto un sacco dei bei libri solo che io l'ho letti l'ho letti tutti e non c'è mai la parola a Dio e la risposta di Laplace fu sì perché io non ne ho alcun bisogno ecco questo era Laplace e diventa il bersaglio di Jonas in questa conferenza certo è chiaro che dobbiamo ragionare in maniera un po' allargata Laplace come dire è la parte per il tutto quello che Jonas attacca non è Laplace in quanto Laplace è Laplace in quanto rappresentante di una fisica tradizionale e classica che pretendeva di relegare il ruolo di Dio come dire o a nulla assoluto o al massimo a quello di un per dirla con Cartesio qualcuno che ha dato un calcio al mondo e poi non ha avuto più nessun interesse per il mondo che è una cosa ben diversa dal Dio di Jonas perché il Dio di Jonas è vero che dà inizio al mondo e poi si ritrae ma trema ha paura soffre per il mondo che ha creato quindi non se ne disinteressa ma se ne interessa per il tramite dell'uomo ma comunque al di là di questo allora come si può combattere Laplace come si può combattere la sua posizione diciamo meccanicistica forte ecco qui c'è un testo che è una lettera il testo numero 8 che io non vi leggo per intero ma insomma poi la leggerete se vorrete perché non voglio rubarvi tempo e non voglio rubarlo soprattutto al dibattito ma insomma è una lettera in cui uno degli uditori di Jonas in quel giorno gli dice senti Jonas io non ho capito bene una cosa ma perché tu per combattere Laplace hai detto che Laplace è antico che Laplace non ha capito niente perché dopo la fisica quantistica è completamente cambiato il modo di spiegare il mondo anche da parte dei fisici non da parte dei filosofi e citava il fenomeno dell'entropia allora qual è il vero problema per Jonas il vero problema per Jonas è che finora noi ci siamo abituati a pensare diciamo a una realtà strutturata secondo le leggi di Newton mettiamola così con la fisica quantistica le cose cambiano perché la fisica quantistica spiega la realtà come un movimento verso il futuro che va da uno stato di minore minima o quasi zero probabilità a quello di più grande o massima probabilità diciamo che spiega la realtà presupponendo all'inizio una concentrazione di massima energia che a poco a poco si espande e si sviluppa allora Jonas dice questo concetto della fisica quantistica mi aiuta a dire che sicuramente la fisica quantistica non dimostra l'esistenza di Dio però ci va molto vicino perché deve presupporre all'inizio di tutto lo sviluppo della realtà un qualche cosa che abbia la minima probabilità possibile ma la massima forza ed energia possiamo chiamarlo l'idea di Dio un fisico quantistico magari avrebbe detto no certamente Jonas fa un'operazione discutibile il primo di voi scientista che si laureerà in fisica Harvard che alza la mano e mi dice ma questa è una frescaccia ok non è molto interessante questo quello che è interessante è l'operazione intellettuale lo sfruttamento della più avanzata dottrina di fisica quantistica per arrivare non a dimostrare ma a postulare a ipotizzare l'esistenza di un primo principio minimamente probabile ma massimamente energico ok e questo primo principio è Dio è Dio per Jonas ed è un Dio che ovviamente come dire ci impone di pensare diversamente anche quello che da Dio deriva allora mettiamola in maniera più secca e vado a concludere se noi non potessimo o non avessimo legittimamente la possibilità di formulare un'ipotesi su Dio anche attraverso la fisica quantistica non ci chiederemmo allora che cosa è il mondo ma siccome abbiamo formulato l'ipotesi anche grazie alla fisica quantistica per esempio al fenomeno dell'entropia che viene spiegato nel testo numero 8 la possibilità quantomeno teorica ipotetica di avere un Dio all'inizio dello sviluppo di tutta la realtà come è la realtà dopo che cosa c'è nella realtà dopo c'è solamente materia e meccanicismo e no perché nella realtà dopo Jonas trova un sacco di altre cose trova i sentimenti la gioia la frustrazione il desiderio la paura la cura nei confronti di sé del prossimo e dell'intera biosfera trova una serie di cose che si rifiuta di spiegare in un senso meramente quantitativo cioè tutte queste cose non possono essere misurate in un laboratorio l'amore non può essere misurato in un laboratorio la cura dei genitori verso un figlio non può essere misurata con una provetta è un qualche cosa in più è uno scarto Jonas la chiama o evidenza antropica per fare una cosa chic oppure la chiama molto più semplicemente e mi riallaccio alla prima cosa che vi ho detto dimensione spirituale trascendente libertà dello spirito è chiaro che qui siamo in una argomentazione che se non è antiscientista è chiaramente critica nei confronti dello scientismo non detta in maniera ancora più volgare forte non tutto si può portare sul banco di laboratorio degli esperimenti scientifici non tutto e quel qualcosa che sfugge ai banchi di laboratorio di elementi scientisti può essere spiegato in un'altra maniera reintroduce un'altra dimensione allora chiudo leggendo il testo numero 9 per intero perché secondo me è la migliore diciamo chiusa anche rispetto alla possibilità di capire che cosa veramente significa questa nuova dimensione spirituale è una nuova dimensione che non è un mero oggetto di studio ma che di nuovo chiama in causa il concetto della responsabilità questa reintroduzione della nozione di Dio non come un'ipotesi ma come una domanda senza risposta badate siamo andati ancora oltre in quello che vi ho detto prima Dio era un'ipotesi una supposizione adesso è una domanda senza risposta chiaro quindi siamo ancora più deboli ad un livello ancora più come dire fragile questa reintroduzione della nozione di Dio a causa del recupero del mistero non garantisce il recupero di una risposta al mistero essa lascia semplicemente aperta la questione le esitanti ricerche personali di una risposta non assumono il carattere di un'ipotesi teoretica costituiscono i rischi di una scelta impegnativa allora qui si consuma la differenza Jonas e il salto addirittura rispetto al concetto di Dio dopo Auschwitz qui non serve più nemmeno l'ipotesi è una domanda senza risposta è una risposta che non diventa nemmeno un'ipotesi teorica ma soprattutto il termine fondamentale diventa una scelta impegnativa credere che il mondo non sia solo sui banchi del laboratorio dello scienziato non è solamente un atteggiamento come dire di opposizione ma è un atteggiamento di proposizione perché vuol dire che se qualcosa sottraiamo ai laboratori della scienza lo però diamo alla scelta impegnativa dell'uomo e ancora qualunque risposta tentiamo in termini teologici questo sembra almeno certo quella divinità che può mettersi in gioco è un Dio che si sforza non è onnipotente non può essere giusto e onnipotente di certo il fatto di essere perfettamente buono perfettamente giusto e di aver causato al giusto sofferenza morte violenta degradazione fa sì che sia insostenibile credere nello stesso tempo nell'onnipotenza e nella giustizia di Dio come vi avevo detto riassume qui quello che aveva detto nel concetto di Dio dopo Auschwitz Dio non può essere tutto perché se c'è stato Auschwitz dobbiamo spiegare Auschwitz e se Dio era onnipotente davvero non lo faceva succedere perché è successo perché la scelta impegnativa dell'uomo ha optato per il male anziché per il bene l'onnipotenza di Dio è connessa in modo essenziale con l'idea della provvidenza verso il particolare che significa il possesso di mezzi assoluti potenti su tutti fino all'ultimo dettaglio se avessimo la vecchia idea di Dio dovremmo pensarlo provvidente ma se è provvidente può provvedere a tutto può controllare tutto fin negli ultimi dettagli non gli scappa Auschwitz ok se è davvero onnipotente è che è distratto dice quel giorno dove stavi? stava a fa'fooding e non mi sono accorto che c'era Auschwitz no se sei onnipotente non ti può sfuggire nemmeno il minimo dettaglio però come dire ultima frase forse noi dobbiamo dedicarci a un altro tipo di Dio non a questo Dio forte onnipotente e provvidente ma a un Dio la cui condizione nel corso delle cose aperta parentesi a causa o per merito dell'uomo è incerta la cui causa è addirittura una parola ossimoricamente inapplicabile a Dio la causa di Dio la sua razio diventa vulnerabile vulnerabile il Dio di Jonas è un Dio vulnerabile che può soffrire che può essere colpito da che cosa? dall'azione malvagia dell'uomo allora il superamento ma se volete anche la negazione di un atteggiamento scientista mette capo in Jonas senz'altro ad una disposizione a una diciamo prospettiva metafisica ma mette capo soprattutto al concetto di scelta impegnativa dell'uomo che cambia il destino e il corso delle cose qui e addirittura la natura di Dio rendendolo sofferente e vulnerabile grazie ragazzi naturalmente tutti quelli che hanno delle domande da fare alzino la mano ma volevo prima dire una cosa io su questo e chiedertene un'altra dunque la stessa domanda su questa domanda che è dov'era Dio d'Auschwitz la risposta che mi è sembrata più convincente è quella che io la sintetizzo al massimo ma insomma lui ha scritto un intero saggio su questo mi ha dato Rav Benedetto Carucci Viterbi che è il presidente delle scuole ebraiche il quale appunto partendo da questo principio invece che pone prioritariamente l'onnipotenza di Dio come dato sostiene che appunto poiché il libero arbitrio c'è totalmente è totalmente disponibile per l'uomo Dio non poteva intervenire laddove l'uomo doveva scegliere e che questo ci riconduce perfino ad Agostino il quale dice appunto è l'uomo che sceglie di non fare il bene e là si realizza il male se Dio fosse intervenuto vedendo come ha visto avrebbe annullato il principio primo che è quello di aver dato all'uomo il libero arbitrio per che si assumesse ogni responsabilità delle sue scelte quindi Dio ha semplicemente distolto gli occhi da lui perché normalmente in questa relazione in cui l'uomo guarda Dio Dio guarda all'uomo ma in quella condizione Dio ha distolto gli occhi di lui e quindi ti chiedo a proposito di quello che tu dicevi torniamo al legame che forse è possibile anche qui intravedere con Agostino tu hai rimandato al legame certamente forte con l'imperativo categorico cantiano ad altri elementi ma mi sembra di vedere anche qua un legame con Agostino soprattutto sul tema del male e ancora quello che Jonas propone è appunto una totale assunzione di responsabilità di fronte a un oggetto fondamentale che è appunto il Bios inteso come totalità dell'ambiente nel quale l'uomo vive per la responsabilità che bisogna assumersi nei confronti delle generazioni future allora la mia domanda un po' provocatoria come mai questo elemento che compare in Levinas quando parla di porsi di fronte allo sguardo dell'altro e guardare al volto dell'altro come mai Arendt con quello che scrive come mai insomma questo tema della responsabilità rispetto al futuro sembra appartenere soltanto al pensiero ebraico novecentesco allora sulla seconda non so risponderti nel senso che non sono così esperto no io dico le ipotesi che tu puoi fare sugli altri no no certo adesso ci arrivo ovviamente era una era una diciamo un incipit retorico per prendere tempo ovviamente no mi rendo conto che è particolarmente sensibile questo tema nei pensatori di tradizione ebraica però non è che sia ignoto ad altri pensatori né tantomeno che sia fuori per esempio da quello che è diciamo la riflessione la stessa riflessione storicistica cioè lo storicismo in tutte le sue forme ha esattamente cercato di affrontare questo tema cioè il tema della presenza nella storia insieme agli altri quindi come dire da oserei dire perfino da Hegel con qualche distingo in poi tutti quelli che hanno fatto della storia il proprio campo di riflessione hanno inevitabilmente poi dovuto fare i conti con la dimensione dell'altro il problema è quanto questo altro diventi discriminante nel momento in cui si va a definire ciò che è morale questo è veramente il punto di svolta io ho una mia idea su questo nel senso che gli unici che riescono a fare bene un mestiere di questo tipo sono quelli che hanno letto ma superato Kant letto ma superato Kant Kant è la sublimazione filosofica del credo cristiano ah ma il prossimo duo come te stesso è diciamo la traduzione volgare di quello che o se volete la traduzione la traduzione comune di quello che Kant mette nobilmente nei suoi imperativi categorici ok però non basta Kant se noi ci fermiamo a Kant noi trasformiamo la morale in un esercizio che è meramente autonomistico ed autoreferenziale e purtroppo per Kant non è così quindi però nello stesso tempo per esempio la seconda formulazione che tu citavi è ancora di grandissima attualità inattuata no 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 però non vorrei essere freinteso io non è che dico che Kant va messo in un cassetto bisogna chiudere la chiave e buttare la chiave io dico che Kant va come dire integrato e corretto con una serie di cose che fanno parte di quella dimensione della storia che nella critica della ragione pura pratica non c'è però scusa chiarisco perché poi magari i ragazzi devono ripasso veloce allora la seconda formulazione dell'imperativo categorico che dice fai in modo di rispettare in te come negli altri l'umanità in modo da fare dell'altro sempre un fine e mai un mezzo scritto alla fine del settecento quando la servitù della gleba è largamente diffusa quando gli inglesi si arricchiscono enormemente col traffico degli schiavi loro portoghesi insomma quando l'altro come mezzo è vissuto in tutti i modi possibili è lontanissima dalla storia di quel tempo l'idea che l'uomo in quanto tale in qualunque condizione sia sempre un fine e non possa essere un mezzo beh questo che Kant scrive in quell'epoca e che nel tempo odierno come sappiamo è ancora inattuato allora mi permetto di dire che ha una grandissima forza oggi proprio oggi dove qualunque visione dell'uomo entra in conflitto con altre visioni dell'uomo perché la forza di certi estremismi anche religiosi contrappone si contrappone con le altre se vogliamo un punto di vista davvero laico che possa riguardare tutti e che nessuno possa negare forse è proprio il punto di vista di Kant forse ancora a distanza di tanto tempo è solo quello il punto di vista e perché lo dico qua dove parliamo di Jonas perché Jonas lo riprende in toto e lo colloca in quello che giustamente lui ritiene debba stare a cuore all'uomo contemporaneo che è il mondo che lo circonda l'ambiente in tutte le sue forme allora ecco penso che Kant sia che Jonas scusami sia davvero fondamentale laddove riprende Kant e lo dimensiona per l'uomo contemporaneo questa è una parte della mia risposta il problema di Kant è che la sua è un'etica è vero che è un'etica autonoma è vero che è un'etica che dà norma a se stesso ma il dare norma a se stesso in maniera trascendentale per usare i termini di Kant rischia di farci dimenticare la quotidianità di ciò che storicamente accade questo è il difetto più grande di Kant che guarda caso è diventato il difetto di parte degli idealisti storicamente i quali hanno enunciato una serie di meravigliosi principi i quali però come dire basti guardare a Fichte i quali però facevano dei non io empirici delle cose di cui ci si poteva tranquillamente liberare dando loro un calcio nel sedere o vogliamo parlare della famosa affermazione geliana in virtù della quale Hegel ha facciato alla finestra vede passare sotto di sé non Napoleone ma lo spirito del mondo allora io quello che dico rispetto a Kant è che purtroppo è il nonno di una serie di nipotini i quali nipotini hanno enfatizzato ciò che in Kant già c'era perché non possiamo pensare che se lo sono inventato in Kant già c'era questa dimensione di astrattezza che spesso chiudeva gli occhi rispetto alla storia ed è la stessa identica critica che personalmente io faccio ai cosiddetti eterni grandiosi principi del liberalismo il liberalismo è una cosa meravigliosa la democrazia che ha generato è una cosa meravigliosa però è una cosa storicamente data e determinata rispetto alla quale noi non possiamo pretendere di trasformarla in una categoria astorica è questo il problema e tutto questo nasce dalle impostazioni stile Kant il quale fa sulla critica ragion pura pratica un ragionamento che prescinde dallo sporcarsi le mani con Alfredo Giovanni e Giuseppe benché enunci principi che tu possono essere ma vanno piegati facendo una scusate la citazione ma insomma bisogna che questo tipo di idee metta mani e piedi e cammini nella storia perché altrimenti ci abbiamo qualche problemino ce lo abbiamo sempre avuto anche perché poi diventano idee che non camminano nella storia ma vengono imposte alla storia spesso e volentieri spesso e volentieri nel sangue e con il sangue vengono strumentalizzate questo è la mia diciamo il mio timore ok mentre ovviamente chi nel sangue c'è vissuto come la tradizione ebraica queste cose le corregge in una maniera molto più se vuoi concreta perché lì lo sguardo dell'altro è quello che tu vedi attraverso il filo spinato non è lo sguardo dell'altro in quanto entità teorica non è un tu con la T maiuscola ma è un tu che si chiama Iosafat piuttosto che Maria ok allora è questo il vero problema quindi diciamo sulla seconda parte della tua domanda non ho una risposta diciamo definita e definitiva tranne questo per usare un termine che compare nei computer quando c'è il virus tranne questo warning su un atteggiamento diciamo troppo legato all'universale perché dell'universale personalmente questo vi come dire vi svelo una cosa di cui farete l'uso che vorrete ovviamente ma io ho molta più paura dell'universale che non del particolare cioè il particolare mi dà problemi perché debbo trattare con Alfredo Giovanni Francesco ma ho paura delle idee di uomo con la U maiuscola perché poi diventano qualche cosa che noi andiamo a portare ad altri che hanno un'altra idea di uomo che non c'ha quella U maiuscola mi fa molto più paura questo mi fa molto più paura questo quindi lo sguardo dell'altro è fondamentale a patto però che noi nell'altro non vediamo un'entità come dire quasi costruita metallogicamente ma a patto che nell'altro noi vediamo tutta la sua storicità cioè il fatto che veste in un certo modo vive in un certo modo mangia in un certo modo se questo è l'altro mi sta bene se l'altro è solamente un'enunciazione teorica ho qualche paura in più ti rispondo così la tua prima parte della domanda fa diciamo un po' tremare i polsi nel senso e qui non sto facendo retorica nel senso che chiamare in causa Agostino impone subito una domanda quale Agostino perché se noi io sono un lettieriano convinto quindi sono convinto che con l'ad simplicianum ci sia una svolta radicale c'è un primo Agostino e un secondo Agostino il primo Agostino è quello che tu hai diciamo ottimamente descritto è quello che è convinto della bontà del libero arbitrio umano è convinto che nell'Eden il padre eterno ha detto ad Amo e Deva oh ragazzi ammazza ho fatto belli siete carucci vabbè te dall'agosto l'abbiamo stati carucci tutte e due fate un po' come vi pare e quindi libero arbitrio ok e di conseguenza come dire la possibilità di inclinare declinare o inclinare male perché in realtà come dire il futuro è veramente aperto ok non ha una predeterminazione questo è il primo Agostino dall'ad simplicianum in poi Agostino la pensa in maniera leggermente diversa perché dal secondo Agostino noi non abbiamo la possibilità di pensare a un essere buono in sé ma abbiamo sull'uomo non la spada di Damocle la spada conficcata del peccato originale che è una notizia peccatis che è assolutamente per tutti su tutti e soprattutto per sempre noi siamo una massa dannata indistintamente quindi noi non ci salveremo mai da soli altro che libero arbitrio questo è Lutero questo è il D servo arbitrio tant'è vero che Lutero quando lo chiamano a Wittenberg e gli dicono Lutero Lutero vieni che se dobbiamo condannare dice mi dovete condannare a me io dico esattamente quello che diceva Agostino e mi vende tutti quelli che ci stanno qua intorno venite a rompe le scatole a me che vi sto citando a livello scritturale i passi di Agostino Agostino è Lutero e Lutero è Agostino perché il secondo Agostino ha come unica dimensione quella della predestinazione rispetto alla quale io non scelgo un bel niente altro che il libero arbitrio io non ho la possibilità di mutare di un centimetro gli stoici erano molto meno deterministi del secondo Agostino perché il secondo Agostino elimina il problema della libertà lo elimina a monte e alla domanda un de malum il malum c'è da sempre per sempre perché è nei disegni imperscrutabili per noi della grazia divina che infatti è data gratis senza che noi possiamo farne commercio altro che il libero arbitrio altro che opere altri che io faccio allora faccio salvo dieci mendicanti e di conseguenza quando vado in paradiso ho tre bollini che mi danno non funziona così la fede di Agostino la fede di Agostino funziona che tu devi a semplicemente affidarti passivamente a quella che è la grazia divina se ti salvi ti salvi se non ti salvi ciccia non c'è scritto ciccia nei testi di Agostino però sostanzialmente è questo chiaro? allora io Agostino il secondo Agostino nella prospettiva di una vera nozione di libertà non ce lo so vedere forse perché sono troppo alla lettieri ovviamente diverso il discorso della domanda invece fondamentale che tu hai posto e dalla quale sei partita anche con la risposta del rabbino dove era Dio? qui dobbiamo metterci d'accordo è chiaro che se noi continuiamo a pensarlo come onnipotente lo possiamo pensare in grado di dare all'uomo il libero arbitrio ma se Dio è onnipotente e è anche buono noi non possiamo pensare che abbia fatto a meno che non ricordiamo alla più biega teodicea l'unica via di uscita nel momento in cui noi vogliamo mantenere bontà, giustizia e onnipotenza è accettare l'idea che questo è il migliore dei mondi possibili anche quando come raccontava Volter nel Candido noi andiamo a raccogliere centomila morti al terremoto di Lisbona che non avevano fatto niente perché il bambino dei sei anni che è morto a Lisbona sotto i sassi non ce l'aveva tutte queste colpe di libero arbitrio allora dobbiamo metterci d'accordo o accettiamo un'idea in virtù della quale esiste la teodicea e allora però il nostro libero arbitrio dove sta se è già iscritto in un quadro generale che comunque va nella direzione in cui deve andare oppure accettiamo l'idea che davvero esiste il libero arbitrio ma secondo me allora c'ha ragione Jonas l'unico modo per far sì che esista il libero arbitrio è sottrarre Dio al mondo non c'è altro modo se lo sottrai al mondo allora la responsabilità la porti solo tu certo io sono stato un po' furbo non v'ho detto scusate ma era per lasciarvi un po' di sorpresa visto che oggi pomeriggio andrete a comprarvi il concetto di Dio dopo Auschwitz allora dovete trovare qualcosa che io non vi ho detto ma insomma accanto allo Tsim Tsum che andrebbe corretto con un altro mito cabalistico che è quello del Tikkun Olam cioè della riparazione del mondo fatta da Dio ma insomma qui c'è una correzione netta cioè Jonas accanto al mito di Platone accanto allo Tsim Tsum accetta il mito dei 36 giusti il Midrash dei 36 giusti ovviamente come dire è vero che tutto sta sulle spalle dell'uomo però il Padre Eterno si è riservato 36 giusti nel mondo che comunque in qualsiasi momento può chiamare a risollevare le sorti qualora la scelta andasse totalmente verso il male a risollevare le sorti della sua creatura quindi c'è un correttivo ovviamente un correttivo altrettanto mitico ma è il correttivo vogliamo metterla con un film vogliamo è il correttivo di Schindler's List è il correttivo di qualcuno che viene chiamato a salvare indipendentemente da ok allora dove era Dio secondo me Dio stava dove dice Jonas stava a guardare con il respiro sospeso con il fiato mozzato quello che accadeva della vera libertà della scelta impegnativa secondo me Jonas al di là del fatto che ci possiamo credere e non credere ci piace o non ci pare io sarei contento se dopo questa mattinata nella testa di tutti voi restassero queste due parole un sostantivo e un aggettivo scelta impegnativa cioè questa è la dimensione che Jonas difende la difende forse in maniera teoricamente diciamo un po' articolata per non dire anche un po' fantasiosa va bene a me in fondo importa poco ma scelta e impegnativa perché la scelta comporta immediatamente l'impegno bisogna sporcarsi le mani questo è quello che Jonas vuole farci capire con tutto questo giochetto dei miti degli incroci che noi stiamo qui per sporcarci le mani che non possiamo né essere fatalisti o quietisti né tantomeno ritenerci sempre dalla parte del bene noi siamo per il mente non possiamo essere indifferenti è chiaro ovviamente cioè voi capite che questa prospettiva depurata da tutte le cose strane che abbiamo detto questa prospettiva è l'unico vero messaggio che rimane da Jonas e allora io capisco perché la responsabilità diventi un princip in Jonas perché non si può fare niente senza la consapevolezza della responsabilità è principio in senso cronologico in senso logico in senso ontologico senza la responsabilità non andiamo da nessuna parte questo è come dire la prospettiva etica che Jonas attraverso arzigogolati discorsi teologici mitici e metafisici cerca di far passare vogliamo buttare tutta l'acqua sporca possibile immaginare però non buttiamo il bambino cioè non lo buttiamo il bambino perché il bambino che Jonas ci ha partorito di fronte oggi insieme a noi a voi è esattamente questo cioè una esortazione alla scelta impegnativa e cioè alla responsabilità che fa parte di un altro concetto che era già idegeriano nonostante tutto che è quello della cura del prendersi cura noi non possiamo essere indifferenti rispetto a quello che abbiamo intorno a noi noi abbiamo il compito di curarcene di farcelo pesare in qualche maniera voi capite che è una vita un po' diversa da quella cioè perché è tutto bello è tutto no non è questa è una vita per cui ogni mattina quando vi alzate voi dovete sapere che state compiendo una scelta nel bene o nel male anche facendo una cosa che vi sembra essere la più normale di tutte è la consapevolezza del vostro stare nel mondo che viene enfatizzata da Jonas e se così stanno le cose ben venga Jonas fatta la tara di tutte le cose strane che dice ok io non lo sto difendendo però la sintesi del suo pensiero è incredibilmente attuale più di tanti altri che si sono dichiarati attuali e invece come vi ricordava il professore tra l'altro lui elabora il concetto di biosfera e oggi questa nozione è indiscussa è al centro di ogni riflessione degli stati all'ONU piuttosto che in Europa o in altri concessi è quindi un pensatore che certamente ha dato al novecento per dire una cosa allora nel principio responsabilità Jonas aveva un pensiero un po' strano diciamo che era convinto che l'unico modo per riuscire a realizzare un pieno rispetto dell'ambiente diciamo una vera e propria affermazione ecologica fosse quella di affidarsi ai regimi comunisti dell'est perché quelli non c'è stava tanta democrazia non si mettevano lì a chiacchierare ma tu che vorresti fare io vorrei andare oppure non c'avevano i conti in banca da riempire e allora arrivava il Honecker di turno e diceva va bene da domani tutti vanno a piedi e tutti andavano a piedi peccato che Jonas non sapesse che bastava passare il confine di Berlino per entrare in Berlino-Est dove c'erano le trabant che inquinavano 150 milioni di volte di più delle più spensate macchine peccato che non facesse finta di non saperlo e peccato che ovviamente facesse finta di non sapere come poi quelle cose venivano applicate però nel 93 pochi mesi prima di nel 92 pochi mesi prima di morire viene intervistato da Der Spiegel un giornale tedesco e i due giornalisti lo incalzano e dicono Jonas lei è proprio un cretino ma si ricorda che ha scritto nel principio responsabilità che ci servivano quelli è crollato il muro come la mettiamo allora Jonas dice sì mi sono sbagliato che è una cosa meravigliosa meravigliosa non dice nessuno in un uomo è una cosa fantastica e soprattutto i filosofi non l'hanno mai detto riuscire a dire sì mi sono sbagliato ho sbagliato proprio la strada non era quella la strada ma sapete che cosa giunge in quell'intervista sono convinto che l'unica modalità diciamo legittima attraverso cui risolvere i problemi della biosfera sia quella di creare delle grandi dei grandi consessi internazionali in cui ci si siede a un tavolo e tramite diritto internazionale si impone il rispetto di una serie di norme sei mesi dopo hanno fatto rio esatto ecco capite che è stato così lungimirante da stare dentro la realtà non fuori della realtà ha capito che la soluzione dittatoriale non funzionava e ha detto benissimo la strada è quella del diritto internazionale però facciamole non succede niente qualcuno di voi potrà dire professore ma lei ma in che mondo vive ma lo sai che si sono messi d'accordo per fare le cose nel 2030 e ridurre è chiaro tutto quello che passa per la concertazione per l'accordo è fatto di compromessi ovviamente però già imporre uno strumento internazionale che costringe i popoli a stare gli stati a stare seduti a un tavolo e dire bene dobbiamo fare questo poi la Cina dirà voi l'avete fatto per cent'anni non va detto niente nessuno ma perché lo devo fare proprio io gli Stati Uniti diranno well we think that it is impossible to do ok è chiaro che quelli sofforti faranno un po' valere il loro peso e la loro forza però in qualche maniera ridurranno del 20% vabbè ok del 25% va bene benvenga il 35% nel prossimo congresso del 50% benvenga il 50% noi dobbiamo deciderci o ci affidiamo come dire a una imposizione dall'alto o se le cose arrivano dal basso passano per il compromesso il compromesso è sempre complicato non è una cosa che si fa perché dice bisogna sempre cedere da una parte e dall'altra però Jonas aveva intravisto lo strumento attraverso cui far vincere il principio di responsabilità ecologica e lo strumento era quello dei grandi consessi internazionali delle grandi kermess internazionali in cui gli stati si ritrovavano per risolvere un problema che non era contrattando che non era solo della Cina che non era solo degli Stati Uniti ma che era di tutti allora adesso vorrei che ci fossero le domande siccome Nino sta registrando e tutto poi andrà sul sito chi deve fare una domanda viene qui parla in questo microfono in modo che vada in registrazione io ora lo giro sono certa che ci sono ragazzi quelli che hanno seguito ce ne sono molti di quelli che hanno seguito invito agli studi filosofici come sai quella iniziativa della società filosofica ha visto la presenza di 15 dei nostri studenti ben oltre il limite delle altre scuole quindi invito quelli che hanno partecipato a porre delle domande giro il microfono e venite qua non fate finta di vergognarvi non ci crede nessuno prego i sgroi e i volpe sicuramente sono pronti prego ah ecco è arrivato il gelato bene chiunque faccia una domanda si alzi però in piedi così i compagni lo vedono ok allora lei ha detto in un certo momento che il concetto di bene e male è arrivato nel momento in cui è comparso l'uomo con il suo libro arbitrio al di là del fatto che non so se veramente possiamo postulare e dare per scontato e considerare a priori il libro arbitrio dell'uomo indipendente dall'assoluto dall'ordine assoluto che possiamo dire anche Dio come ordine assoluto ma in questo senso allora il bene e il male sono solo relativi all'uomo e se Dio si è occupato e ha creato il cosmo tutto allora comunque come sarebbe Dio legato alle questioni di bene e male che in realtà riguardano solo e soltanto l'uomo e non il cosmo Auschwitz di fatto è stato un male per l'uomo ma per il cosmo non è stato niente allora innanzitutto la rimando al testo 5 e ovviamente la rimando a quello che dice Jonas perché io ovviamente faccio l'esegeta di Jonas io avrei una mia risposta a quello che lei ha detto però non è molto interessante allora il sopraggiungere dell'uomo il sopraggiungere quindi se l'uomo sopraggiunge vuol dire che qualcosa c'era prima giusto? perché se io sopraggiungo vuol dire che mi metto sopra qualcosa che già c'è giusto? quello che già c'è era stato descritto nel testo 4 come lo vogliamo chiamare? un fenomeno evoluzionistico? sì fenomeno evoluzionistico in cui le cose non rispondono a Dio rispondono al loro istinto ok? e certo nell'istinto non c'è bene e male non è che lei quando vedi c'è un altro esempio che fa è lo stesso Jonas quando lei vede i documentari di Attenborov bellissimi della savana no? e vede quella povera gazellina che a un certo punto va il leone e se la mangia lei non è che dice oddio quant'è cattivo il leone lo dice? non credo no? ok non mi pare non la riterrei molto intelligente se lei lo dicesse e lo pensasse lì c'è semplicemente una questione di istinto la gazella scappa il leone va perché se la deve mangiare e deve portare la ro... allora cerchiamo di capirci tutto quello che c'è secondo Jonas prima dell'uomo risponde a questo criterio di evoluzione neutra né utrum né l'uno né l'altro il sopraggiungere dell'uomo quindi il sopraggiungere dell'uomo significa il sopraggiungere di sapere e libertà allora vogliamo dirla in termini baconiani come già accennavo nel momento in cui l'uomo che è la punta della piramide ha al massimo grado la capacità di conoscere la realtà il suo conoscere lo vincola anche all'agire ma non più un agire inconsapevole ma un agire dettato dal sapere allora mettiamole in termini intellettualistici se l'uomo riuscisse a sviluppare un sapere in cui il male viene marginalizzato se non espulso per sempre noi avremmo unicamente cose buone siccome questo non si dà perché il sapere dell'uomo come quello di Dio non è onnisciente e onnipotente ma è limitato allora è un dono a doppio taglio può essere buono può essere cattivo e a quel punto la responsabilità ricade o crea se vuole una distinzione fra bene e male il bene e il male sono dimensioni che hanno a che fare unicamente con una azione umana che è legata ad un sapere che diventa libertà questo è quello che dice Jonas poi io avrei delle opposizioni rispetto a questo perché ovviamente un Dio creatore probabilmente ha delle responsabilità che vanno oltre il semplice fatto di mettere in moto un circo in cui poi l'uomo diventa l'unico domatore per dirgliela in metafora secondo me però l'idea cabalistica che Jonas sfrutta è esattamente questo cioè Dio dà vita alla realtà ma poi non se ne interessa più si ritrae letteralmente da questa realtà ritraendosi è chiaro che le categorie del bene e del male non sono più di Dio è ovvio che non sono di Dio perché lui non ci sta più in mezzo alla realtà quello che accade nella realtà è colpa della pianta vabbè non esageriamo cioè era ecologista Jonas però non è che io ho fatto questa relazione una volta in una facoltà di fisica e c'erano dei biologi che mi hanno attaccato in un modo mistico mi hanno detto certo tu ancora te ne vai in giro con sta gente con Jonas che ritiene che le piante non abbiano nessuno e ho detto ho capito cioè io a parte di quello che diceva Jonas però francamente insomma non possiamo neanche negare quello che dice Jonas e cioè che mentre gli animali debbono muoversi per andare a cercare il proprio cibo e quindi come dire mettono in atto comunque una relazionalità con l'esterno le piante tutto sto movimento io non ho mai visto un geranio che si è esposta dal balcone mio a quello del vicino perché gli fa più comodo che c'è più luce non l'ho mai visto certo ho visto un geranio mi ha risposto il collega botanico mi ha detto ho visto un geranio che fa di tutto e diventa addirittura storto perché è l'unico modo in cui prende la luce nulla questio per carità però insomma qualche piccola differenza dentro il mondo tutto intero c'è Jonas le enfatizza Jonas è molto tradizionale da questo punto di vista ritiene che lo scarto ci sia con quell'animale speciale che è l'uomo ma lì si istituiscono i tribunali del bene e del male non prima prima non ci sono e non ci sono neanche in Dio perché se ci fossero in Dio allora Dio sarebbe vincolato a dire e Auschwitz ok sarebbe roba sua anche invece non è roba sua grazie no lo dico perché Volpi può andare avanti delle giornate ma deve passare la palla grazie Jonas è un po' il figlio intellettualmente parlando di Heidegger o meglio uno di tanti figli di Heidegger anche i nipoti c'è un bellissimo libro che parla dei nipotini di Heidegger e uno dei nipotini è Jonas e sappiamo che Heidegger ebbene molto da fare nell'ultima parte della sua vita con il rapporto fra la tecnica come strumento di potere la tecnica del mondo la tecnica qualche tempo dopo nei saggi di Horkheimer Adorno e la scuola di Francoforte anche loro ripresero il problema della tecnica e paradossalmente da due punti di partenza opposti giunsero alla stessa conclusione ma visto che Jonas è un po' nel mezzo dei due fra Heidegger e la scuola di Francoforte successiva che cosa ne pensava Jonas della tecnica e del suo rapporto con il potere grazie naturalmente questa è concordata nel senso che siamo messi d'accordo prima quando è venuto qui ha fatto finta di fare il computer in realtà ci siamo messi d'accordo sulla domanda no grazie perché mi consente di dire una cosa fondamentale fra l'altro è una cosa che farà piacere anche a tutti quelli che hanno o perché gliel'hanno fatta leggere per forza o perché da oggi la leggeranno ecco vi permettetemi una battuta vi dispenso dall'acquistare oggi pomeriggio il concetto di Dio dopo Auschwitz se mi promettete che oggi pomeriggio questo lo comprate domani se oggi pomeriggio andate a comprare l'antigone di Sofocle ok allora andate a comprare l'antigone di Sofocle e leggete il primo stasimo ok il primo stasimo è a parte letterariamente uno dei punti più belli e più alti della letteratura mondiale a parte questo insomma questo vabbè degustibus ma è una cosa in cui il coro interviene per celebrare l'antropos l'uomo come dei nos intraducibile cioè io se dessi una versione da collega di latino e greco e ci fosse dei nos come dire farei passare tutte le traduzioni possibili immaginabili cioè accetterei tutto non metterei nessun segno né blu né rosso che cos'è dei nos dei nos è tutto è capace sì è potente sì ma è anche terribile è anche tremendo ok allora l'uomo è tutto questo perché perché lì ce lo dice Sofocle perché è tutto questo perché ha fatto un sacco di cose che gli hanno consentito di conquistare e dominare il mondo ok allora il problema della tecnica non è un problema di Heidegger chiaro il problema della tecnica è insito nella modalità in cui l'uomo sta nel mondo se l'uomo sta nel mondo con una mentalità trasformativa e acquisitiva inevitabilmente utilizzerà questo è un problema mi scusi adesso non voglio fare l'antichista a tutti i costi che è la mia parrocchia ma questo è un problema che noi ci abbiamo già con Anasagora buonanima Anasagora dice che gli uomo si distingue da tutti gli altri perché ha le mani e con le mani mette in atto le tecnai basta chiaro? cioè mette in atto le tecniche allora il problema della tecnica è un problema legato alla modalità in virtù della quale noi pensiamo la nostra esistenza se la nostra esistenza è necessariamente trasformativa e acquisitiva la tecnica è per noi è per la nostra essenza direbbe Aristotele indispensabile Jonas si ribella non all'idea che ci sia la tecnica allora visto che posso permettermi di citarlo glielo leggo quello che dice Jonas perché Jonas non si ribella all'idea che l'uomo possa avere come sua propagine come sua capacità e possibilità di intervento nel mondo anche l'aspetto tecnologico si ribella ad un'altra cosa adesso come dire lo 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 leggiamo dove sta eccolo qua vabbè volevo leggere un'altra cosa ma insomma leggo questa più precisamente intendo affermare che in seguito a determinati sviluppi del nostro potere si è trasformata la natura dell'agire umano e poiché l'etica ha a che fare con l'agire ne deduco che il mutamento nella natura dell'agire umano esige anche un mutamento nell'etica questo non solo nel senso che nuovi oggetti dell'agire hanno ampliato materialmente l'ambito dei casi quali vanno applicate le regole del comportamento ma in quello ben più radicale che la novità qualitativa di Tatoo le nostre azioni ha dischiuso una dimensione del tutto nuova di rilevanza etica che non era prevista in base ai punti di vista e ai canoni dell'etica tradizionale allora qual è il problema di Jonas? non è che c'è la tecnica ma che la tecnica si è sostituita alla scienza il problema di Jonas è che fino a quando noi esercitiamo un sapere che guida la libertà non ci sono problemi nel momento in cui quel sapere si allea come dice in un altro punto con gli interessi economici lo dice esplicitamente lui allora a quel punto noi non stiamo più coltivando il sapere ma stiamo unicamente piegando la scienza ai fini del profitto questo combatte Jonas quindi non è non è un primitivista non è Russo non è uno che dice ah guarda che bello quando si stava con la foglia di figo non sapevamo nemmeno che non c'avevamo lo spazzolino elettrico e ce l'aveva meglio no non è quello non è quello ma nel momento in cui la tecnica diventa l'unico elemento di valutazione del nostro agire morale noi abbiamo cambiato la natura dell'agire umano e allora delle due luna o la accettiamo con tutte le conseguenze che per Jonas sono quelle della distruzione della biosfera oppure lo limitiamo oppure accettiamo l'autolimitazione che è un'autolimitazione tanto della scienza quanto della tecnica quanto della morale cioè questo libro è pieno di cose che non si possono fare non di cose che si possono fare non è un'etica propositiva è un'etica del limite è un'etica del freno perché ovviamente secondo Jonas il prometeo scatenato come lo definisce nell'introduzione nella prefazione il prometeo irresistibilmente scatenato al quale la scienza conferisce delle forze senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante esige un'etica che mediante autorestrizioni impedisca la sua potenza di diventare una sventura per l'uomo questa è la risposta migliore che le posso dare questa è la posizione di Jonas non è la posizione di Franco Fortesi ovviamente ma non è nemmeno la posizione di Heidegger tanto meno perché Jonas non è un negatore non è uno che dice dobbiamo tornare ai presocratici alla loro visione olistica non lo dirà mai una cosa di questo tipo dice una cosa diversa siccome prometeo prometeo è quello che ruba dall'olimpo il fuoco e la tecne la sofia la sapienza tecnica come dice il mito di Protagora in Platone e la porta agli uomini in sé questa è una cosa buona per Jonas non è una cosa cattiva il problema è quello che accade dopo se noi tutto questo lo usiamo mantenendoci entro i confini della natura bene per esempio Jonas è molto dubbioso su quello che è tutto l'ambito delle cosiddette manipolazioni genetiche cioè lì stiamo scherzando col fuoco nel senso che stiamo intervenendo sulla natura per modificare qualche cosa a vantaggio di che cosa a vantaggio della natura no spesso e volentieri a vantaggio dell'economia perché facciamo uomini più forti che hanno meno malattie che costano di meno eccetera ok oppure a vantaggio di che cosa di tutti uomini belli alti biondi con gli occhi celesti per nulla negri anche lì dobbiamo vedere come stiamo intervenendo sulla natura perché nella natura ci stanno pure i negri ecco tutto il rispetto per i bianchi ok allora è questo quello che Jonas non sopporta il momento in cui la tecnica cambia le carte in tavola della natura ok non ci mette l'aspetto rivoluzionario perché ovviamente i francofortesi a questo aggiungono ergo ok l'ergo in Jonas non c'è però gli altri non lo sanno perché il giro è un unicum diciamolo ergo ergo non ci si deve limitare ad una etica di autorestrizione ma bisogna cambiare le condizioni economiche che determinano lo sfruttamento tecnologico della natura e della realtà che è una soluzione post marxista ovviamente ma sostanzialmente marxista ok perché poi possiamo pure girarci intorno e fa finta che francofortesi è un'altra cosa no la matrice è marxista sicuramente allora delle due luna o noi accettiamo la prospettiva ionasiana che è una prospettiva di rinnovamento dall'interno di autorestrizione dall'interno del potere di azione morale dell'uomo oppure accettiamo l'idea o anzi ne vedo tre di prospettiva o accettiamo l'idea di bloc del principio speranza in virtù del quale noi non dobbiamo sviluppare un principio responsabilità ma un principio speranza talmente forte che ci porti a instaurare qui sulla terra il regno di dio sostanzialmente ok oppure dobbiamo accettare la prospettiva francofortese che è quella di una modificazione delle condizioni materiali dell'esistenza in virtù delle quali noi redistribuiamo potere e ricchezza in modo tale che non ci siano scompensi tali in virtù dei quali qualcuno persegua come la Novartis i suoi interessi nella modificazione genetica di alcune cose e altri invece li subiscano solamente comunque la nota è che in entrambi i casi queste due aree del novecento poi alla fine cosa pongono al centro la politica assolutamente perché la proposta iorassiana è una proposta politica forte e quella dei francofortesi addirittura radicale evidentemente però c'è una differenza nel senso che la proposta politica di Jonas si rifà ad un modello che è quello parentale quello dei genitori che come dire ha poco a che fare in senso stretto con la politica mentre il modello francofortese ha a che fare con mutamenti effettivamente radicali Jonas dice vogliamo capire che cosa sto dicendo guardate che cosa fa un padre per un figlio che cosa fa un genitore per un figlio lavora per il suo futuro indipendentemente da non è che gli deve garantire l'essere e l'essere felice questo è quello che dobbiamo fare noi rispetto alla biosfera garantire l'essere e l'essere in buona salute della biosfera niente di più e niente di meno ho visto tornare Rapponi Scenna Procopio mi piacerebbe che avessero delle domande da fare o altri naturalmente che vogliono intervenire su tutto quello che è stato messo sul tappeto che è moltissimo magari avete delle domande da fare silenzio quinta B ah la professoressa certamente la collega Piscione scivolo sul terreno teologico questo Dio sofferente e vulnerabile che decide di esserlo e che si espone all'uomo Jonas non ha pensato che un po' richiama il crocifisso e la teologia cristiana lo ha potuto prendere come punto di riferimento non lo so posso dirle che da un punto di vista personale aveva ottimi rapporti con i teologi cristiani quindi in qualche maniera come dire qualche lunghezza d'onda quando mettevano la radio probabilmente sentivano non dico lo stesso programma ma musica analoga questa è una battuta ovviamente il problema della croce il problema della croce e dell'incarnazione però è un problema diverso nel senso che Dio lì arriva entra irrompe addirittura nel mondo determinandone un prima e un poi cosa che per Jonas non può darsi allora nel caso del cristianesimo noi abbiamo un punto in cui la storia cambia verso adesso purtroppo lo dice anche Renzi ma insomma diciamo che siamo a livelli molto più alti ecco vorrei che questo fosse un livello molto più alto ma insomma la storia cambia verso cioè la storia da lì in poi diventa una storia di salvezza che però viene condotta provvidenzialisticamente verso la salvezza non è che fa un po' come gli pare no? non è che la discesa di Cristo in terra è un evento qualsiasi perché dice vabbè ok si è manifestato da domani e no e no perché come dire se lei legge i resoconti delle prime comunità cristiane Paolo compreso quelli aspettavano la parosia da un momento all'altro c'è l'orologio pronto a dire ok quando torna ok perché il problema lì era una reale aspettativa escatologica cioè di un escaton di un punto finale che però era il punto migliore possibile perché già così era nella storia della salvezza tutto questo in Jonas non ci può essere non ci deve essere se accettiamo il mito di un Dio che si ritrae Dio si è ritratto e basta poi lei mi può dire e il Midrash dei 36 giusti è il Midrash dei 36 giusti c'è quello è veramente l'escamotage nel senso che nonostante il ritrarsi la sofferenza di Dio non si può neanche pensare da un punto di vista ebraico come resa Dio a me viene in mente Chagall che da ebreo è tale rimasto però il crocifisso è presente come il sofferente assolutamente però Chagall non ci impianta su una teologia su queste cose Jonas invece sì e ce la deve impiantare cercando di fare in modo che la responsabilità dell'uomo sia comunque sempre tutta sulle sue spalle non può cioè l'aiuto divino il cambio di marcia cristologico per Jonas sarebbe una diminuzio della sua idea di responsabilità perché è chiaro che è arrivato qualcuno che come dire ti ha detto quello che devi fare te l'ha detto invece tu non lo devi cioè tu te lo devi costruire nel tuo stare nel mondo e lì sei come dire sottoposto al bene e al male e Dio con te questa è la prospettiva veramente inaudita veramente incredibile audito e dictu per quello che riguarda il messaggio di Jonas secondo me però adesso lei mi tira dentro il discorso teologico se uno legge attentamente i testi non solo il concetto di Dio ma anche gli altri teologici di Jonas ci trova una miriade di ingenuità ma proprio tante allora io non me la sentirei di difenderlo neanche lontanamente su quel terreno l'operazione che io però io faccio su Jonas è un'altra io estraggo è come quando si fanno seccare cioè per carità uno mette le foglie di tè che sono molto grandi però a me quello che mi interessa delle foglie di tè è l'essiccato e l'essiccato della foglia di tè di Jonas è il concetto di responsabilità è il fatto che io porto sulle mie spalle la scelta impegnativa questo è quello che a me preme nel momento in cui presento Jonas diciamo che io ho uno scopo propagandistico se vuole questo non lo nego minimamente mi servo di Jonas ecco mi servo di Jonas se poi dovessi fargli le bucce insomma nel concetto di Dio dopo Auschwitz c'è un'utilizzazione del mito del timeo di Platone che fa ridere fa letteralmente ridere ed è sbagliata filologicamente sbagliata ma che vogliamo fare vogliamo fare filologia o vogliamo fare filosofia se vogliamo fare filologia non c'è problema Jonas l'avremmo rimandato a settembre non so quante volte se vogliamo fare filosofia il discorso è un altro ok è un discorso che comporta l'accettazione di grandi concetti che però debbono funzionare non debbono essere valutati perché sono perfettini debbono essere valutati perché muovono qualche cosa questa almeno è la mia prospettiva di lettura di Jonas ragazzi c'è qualcun altro ecco Raponi vieni qualcuno gli dai il microfono per favore anche lei ah e chi c'è anche da quella parte lei o lui non vedo niente l'internazionale da quella parte c'è qualcuno ha alzato la mano ah ecco allora Raponi alzati però fatemi vedere ah ce l'hai tu ok io in realtà avrei due domande innanzitutto non capisco bene questo concetto dell'entropia forse perché non mi mancano le basi fisiche perché non capisco il concetto di partire da una minima possibilità possibilità e avere una massima energia e come questo questo però non lo dico io lo dice la fisica quantistica quindi ok ma non capisco non posso farci nulla nel senso cioè come è collegato alla concezione di Dio di Jonas a questo concetto di minima possibilità e massima energia qui la risolvo subito se permette facciamo una cosa socratica è chiaro che se c'è la massima energia dobbiamo presupporre che ci sia come lo vogliamo chiamare un principio da cui se non si genera vogliamo parlare di Big Bang ok vogliamo fare un discorso di questo tipo se c'è il Big Bang perché è perché c'è una concentrazione enorme di materia che è assolutamente potente e che non può che espandersi ok e Dio che c'entra Dio è esattamente questa cosa per Jonas è la sua ipotesi la sua ipotesi è che la fisica quantistica sia arrivata fino alle soglie dell'ipotesi di Dio senza formularla lui la sfrutta torno a dirle poi legittimamente legittimamente filologicamente sarà un altro errore ma non mi interessa molto cioè la fisica quantistica dice che noi abbiamo dei processi tali per cui all'inizio ci deve stare qualcosa di minimamente probabile e sicuramente l'ipotesi di Dio è minimamente probabile da un punto di vista scientifico ma assolutamente potente e Dio per definizione è ciò che è massimamente potente Jonas fa 2 più 2 e dice benissimo la quarta legge della termodinamica e soprattutto l'entropia mi serve esattamente per dire questo sbaglia? un fisico presente in sala dirà subito sì sbaglia è interessante? probabilmente sì però fino a un certo punto per la mia prospettiva ok e poi voglio chiedere anche il Dio ebraico ma anche cristiano vabbè insomma diciamo il Dio ebraico interviene due volte nell'universo cioè il momento della creazione e il momento della vocalisse e invece secondo Jonas che fa? se ne va e basta senza nessuno allora innanzitutto una cosa importante Jonas si copre dietro un ramo di tradizione ebraica io forse io forse non l'ho detto in maniera accurata ma quello che Jonas usa in questo libricino non è farina del suo sacco è che si è messo lì ha detto oddio come posso pensare Dio no l'ensuf e lo zimzum sono concetti di Shlomo Luria della cabala ebraica cioè sono stati formulati in un periodo storico ben preciso da una corrente mistica ebraica che li ha diciamo messi su piazza poi non sono risultati vincenti questo è un altro paio di maniche anche nel cristianesimo molte cose che la gente ha detto non sono risultate vincenti però non è detto che noi dobbiamo studiare o utilizzare Jonas fa questo riprende questo concetto perché il Dio di cui questa tradizione si fa portavoce è un Dio che si ritrae sempre anche alla fine non c'è l'apocalisse si è ritratto perché ha lasciato il mondo al suo destino non al suo destino totalmente come dire automatico ma ha un destino che è regolato da una creatura che ha la capacità di scegliere il bene e il male questo è quello che dice il mito e Jonas lo sfrutta secondo me per come lo leggo io esattamente per portare acqua al suo mulino che sta dietro questo tomone cioè il principio responsabilità questo è diciamo il modo per far quadrare per far sì che il mosaico si chiuda ok ci sono tanti tasselli ecco l'immagine del mosaico mi sembra non del tutto indegna è chiaro che Jonas fa un'operazione è uno che ha tante tessere davanti le prende e si fa il quadro suo però ovviamente non è un filologo non è che interpreta la cabala o l'uria no lui si fa il suo quadro che mira neanche troppo nascostamente a dire quello che vi ho detto ok però sfruttando degli elementi cioè come se lei prova una ricetta nuova è chiaro che lei se ha a casa un libro di ricette per fare la torta di fragole le dice che deve mettere tot di crema tot di panna tot di fragola e tot di che ne so vaniglia poi lei un giorno sta a casa sta con una sua amica e dice ah la sua amica le dice guarda che la nonna di mia cugina della basilicata ci metteva pure la cioccolata davvero mazza ganso prendo la cioccolata e ci metto la cioccolata magari siccome le piace tanto ci mette più cioccolata di quella che ci metteva la nonna della basilicata la fa lei la torta gli ingredienti sono riconoscibili però la torta è sua chiaro? allora in Jonas gli ingredienti sono riconoscibili qualche volta come dire non sono neanche usati in maniera del tutto legittima però nello stesso tempo sono suoi perché l'obiettivo filosofico è suo salve dunque noi abbiamo detto che Jonas come anche Kant ad esempio non considera la metafisica propriamente come un'estensione della conoscenza ma appunto un mondo all'interno del quale l'uomo si può orientare attraverso queste supposizioni comunque dotate di una razionalità filosofica di fondo e mi chiedevo come si pone Jonas ad esempio e qui forse può essere interessante il rapporto con ad esempio Heidegger nei confronti di quel lato della personalità dell'uomo che ci consente di entrare in rapporto con la metafisica attraverso proprio questo un ponte diretto che è inerente che è inerente al nostro essere comunque appartenenti anche al mondo della metafisica per via comunque dei nostri sentimenti ad esempio il sentimento dell'angoscia può essere e oltretutto mi chiedevo se queste due vie di entrare in relazione con la metafisica portino alla stessa prospettiva euristica appunto di cui parlavamo allora faccio un brevissimo riassunto delle puntate precedenti sul rapporto Kant-Jonas citando i due termini chiave Jonas accetta totalmente e completamente la distinzione fra verstand e verunft ok l'intelletto è una cosa la ragione è un'altra ok l'intelletto è grandioso meraviglioso ma limitato ok cioè si muove nei limiti dell'esperienza possibile la ragione beata lei no ok questo non significa che la ragione è meglio dell'intelletto la ragione è diversa ok è una facoltà diversa ora Kant come dire però c'è la registrazione non vorrei che poi venisse usato contro di me ok vabbè la metto diversamente Kant però la devo studiare allora Kant Kant non ci va giù duro fino in fondo perché comunque la ragione la circoscrive nelle sue pretese perché dice che c'ha delle pretese legittime ma altre che sono illegittime lo dice lui eh non è che lo dico io quelli che vengono dopo Kant quando lo leggono sfogliano si fermano alla pagina delle pretese legittime e si dimenticano tutto l'idealismo è come dire una distorsione paurosa dell'io penso Kantiano ok dove la Fernunft diventa una specie di supereroe che si avrebbe a Fernunft mazza ha ragione faccio tutto io ci mancherebbe altro poi la chiamiamo spirito la chiamiamo ich la chiamiamo come vuole lei geist come vuole non è un problema però che pensimi cioè diventa l'intellettuale del nord che fa fabbrichetta fa tutto lui ok la migliore critica a questa posizione l'ha espressa Jacoby negli Spinoza Brife contro Fichte dicendo che il suo ich è in realtà come un ragno che fa la tela e se la rimangia quanto vuole beh questo adesso è anche una forma di nichilismo però andremo su un'altra strada però questo era solo per farle capire dove concordano ok solo che legittimamente Jonas accetta anche i limiti della ragione non solamente le potenzialità inesauste ok allora accettando i limiti della ragione però la usa davvero in quanto tale come uno strumento per formulare ipotesi ma non abdica alla ragione quello che accade in Heidegger in alcuni casi è esattamente questo invece cioè un'abdicazione quando c'è la dimensione dell'ascolto quando c'è la dimensione del pastore dell'essere tutte queste cose per Jonas sono incomprensibili perché non è possibile accedere all'essere se non attraverso la via suppositiva ma razionale che Jonas difende chiaro? allora lei però ha citato un'altra cosa importante su cui vorrei perdere un minuto il concetto di angoscia se vuole il concetto di paura allora lì Jonas non è fedele a Heidegger ma ne subisce fortemente l'influsso perché quando Heidegger diciamo sostanzia di forza nell'atteggiamento della scelta impegnativa il concetto di cura beh insomma diciamo che siamo fortemente in un'area di famiglia heideggeriana perché la cura è esattamente questa preoccupazione per l'esserci nel mondo chiaro? certo a che cosa mette capo? in Jonas mette capo a un concetto di responsabilità che fa dell'uomo parte integrante del bene e del male in Heidegger mi sembra di ricordare che non sia così ok allora diciamo che una serie un imprinting ecco siamo un termine un imprinting heideggeriano è innegabile in Jonas ma il suo sfruttamento va verso una direzione che è profondamente altra vogliamo dirla allora la dico con Heidegger quando è che Heidegger con Jonas quando è che Jonas si distacca da Heidegger lo dice lui non lo dico io al fronte nel 1943 in guerra c'è una sua bellissima lettera che scrive alla moglie in cui dice che ha raccolto un suo compagno ferito con le budella di fuori ok allora e dice alla moglie questi sono i famosi l'air brief di Heidegger di Jonas alla moglie sono meravigliosi perché iniziano sempre cara l'ore io veramente non so come fare senza di te mi ricordo le nostre passeggiate punto a capo e diventano dei trattati di filosofia sta poraccia che le riceveva non lo so come stava messa ma insomma donna eccezionale ma certo uno si aspetta una lettera dal fronte in cui dice che ne so un po' da altre cose invece diventano dei trattati di metafisica ok in questa lettera Jonas dice ah cara l'ore sei molto bella nella tua immagine mi compare però oggi durante lo scontro il mio amico Franz è morto e io me lo sono ritrovato in braccio con le budella con il sangue con gli schizzi di sangue con le budella di fuori non lo fa perché ama Quentin Tarantino ma lo fa per trarne una conclusione finalmente ho capito che cosa si era dimenticato Heidegger la dimensione del corpo il fatto che noi siamo corpo che noi siamo esseri organici questo si era dimenticato e da lì in poi Abschied von Heidegger lo chiama rottura definitiva con Heidegger perché Heidegger era dimenticato una parte integrante fondamentale dell'uomo il suo essere qui come corpo come organismo quindi poi le distanze si fanno abissali ovviamente proprio siderali però insomma nonostante tutto questo corpo che sta in mezzo ad altri corpi deve prendersi cura di sé degli altri corpi e di tutta la realtà insomma diciamo un concetto forte di cura c'è che però Jonas declina come Fair Antwortung non faccio sfoggio di tedesco ma è importante che dica Fair Antwortung perché dentro c'è la radice Antworten bisogna rispondere a qualcosa ma per rispondere a qualcosa bisogna essere in grado di ascoltarla e bisogna ascoltare non solamente l'essere ma chi se ne frega dell'essere bisogna ascoltare Franz che è morto col suo corpo è un ascolto diverso e allora il mio Antworten il mio rispondere è un rispondere diverso chiaro? non so se sono stato chiaro nella risposta è un rispondere non a un concetto ma a un chi che è esattamente a un altro che però non è un altro maiuscolo ma è un altro con la minuscola è Franz Giuseppe Alfredo Giovanni e su questo appunto su questa corporeità dimenticata per l'essere come assoluto è la frattura che si realizza non solo tra Heidegger e Jonas ma anche con Levinas e con Arendt naturalmente ringraziamo il professor Spinelli per il suo eccezionale contributo e naturalmente come sapete dalla circolare potete andare la Quinta spero abbia preso serie appunti perché c'è un compito in classe su questo il 21 mi dispiace per voi grazie grazie